René Guénon. Gli stati molteplici dell'essere. Prefazione. Nel nostro studio precedente sul simbolismo della croce abbiamo esposto, secondo i dati forniti dalle differenti dottrine tradizionali, una rappresentazione geometrica dell'essere che è basata interamente sulla teoria metafisica degli stati multipli. Il presente volume ne sarà come un complemento perché le indicazioni che abbiamo dato non sono forse sufficienti a far risaltare tutta la portata di questa teoria, che si deve considerare assolutamente fondamentale. In effetti allora ci limitammo a quello che si rapportava più direttamente allo scopo nettamente definito che ci proponevamo. È per questo che lasciando ora da parte la rappresentazione simbolica che abbiamo descritto, o almeno ricordandola in qualche modo solo incidentalmente quando dovremo riferirci ad essa, consacreremo interamente questo nuovo lavoro ad un più ampio sviluppo della teoria di cui si tratta, sia in primo luogo nel suo stesso principio, sia in certe sue applicazioni, in quello che concerne più in particolare l'essere, considerato nel suo aspetto umano. Per quello che riguarda quest'ultimo punto non è forse inutile ricordare fin d'ora che il fatto di fermarci alle considerazioni di quest'ordine non implica affatto che lo stato umano occupi un rango privilegiato nell'insieme dell'esistenza universale, o che sia metafisicamente distinto in rapporto agli altri stati per una qualsiasi prerogativa. In realtà questo stato umano è solo uno stato di manifestazione come tutti gli altri e tra un'infinità di altri. Si situa nella gerarchia dei gradi dell'esistenza nel posto che gli è assegnato dalla sua natura stessa, vale a dire dal carattere limitativo delle condizioni che lo definiscono, e questo posto non gli conferisce né superiorità né inferiorità assoluta. Se dobbiamo a volte considerare in particolare questo stato è dunque unicamente perché, essendo quello in cui ci troviamo di fatto, acquisisce per noi, per questo motivo, ma per noi soltanto, un'importanza speciale. È solo un punto di vista relativo e contingente, quello degli individui che siamo nel nostro attuale modo di manifestazione. È per questo che quando parliamo di stati superiori e di stati inferiori è sempre in rapporto allo stato umano, preso come termine di paragone, che dobbiamo operare questa ripartizione gerarchica, poiché nessun altro stato è direttamente conoscibile da noi in quanto individui. E non si deve dimenticare che ogni espressione, essendo racchiusa in una forma, si effettua necessariamente in modo individuale, per cui, quando vogliamo parlare di qualunque cosa, anche di verità di ordine puramente petafisico, lo possiamo fare solo scendendo a tutto un altro ordine, essenzialmente relativo e limitato, per tradurla nel linguaggio che è quello dell'individualità umane. Si comprenderanno facilmente tutte le precauzioni e le riserve che impone l'inevitabile imperfezione di questo linguaggio, così manifestamente inadeguato a quello che deve esprimere in tali casi. C'è una sproporzione evidente e si può d'altronde dire altrettanto per ogni rappresentazione formale qualunque sia, comprese anche le rappresentazioni propriamente simboliche, cheppure sono incomparabilmente meno limitate del linguaggio ordinario e di conseguenza più adatte alla comunicazione di verità trascendenti, don dell'impiego che ne viene fatto costantemente in ogni insegnamento che possieda un carattere veramente iniziatico e tradizionale. Nota. A tale proposito vogliamo far notare che la filosofia non ricorre mai a nessun simbolismo e questo basterebbe da solo a dimostrare il carattere esclusivamente profano ed esteriore di questo particolare punto di vista e della forma di pensiero a cui corrisponde. È per questo, come abbiamo già sottolineato più volte, che conviene, per non alterare la verità con una esposizione parziale, restrittiva o sistematica, tener conto sempre della parte inesprimibile, vale a dire di quello che non potrebbe essere racchiuso in nessuna forma e che metafisicamente è in realtà quello che più conta, possiamo anche dire l'essenziale. Ora, se si vuole ricollegare, sempre in quello che riguarda la considerazione dello stato umano, il punto di vista individuale al punto di vista metafisico, come si deve sempre fare se si tratta di scienza sacra e non solo di sapere profano, diremo questo. La realizzazione dell'essere totale può compiersi a partire da non importa quale stato preso come base e punto di partenza, in ragione stessa dell'equivalenza di tutti i modi di esistenza contingenti rispetto all'assoluto. Essa può dunque compiersi a partire dallo stato umano come anche da ogni altro e anche, come abbiamo già detto altrove, a partire da ogni modalità di questo stato, che è come dire che essa è possibile per l'uomo corporale e terreno. Qualsiasi cosa ne possano pensare gli occidentali, indotti in errore e quanto all'importanza che conviene attribuire alla corporeità, dalla straordinaria insufficienza dei loro concetti riguardo la costituzione dell'essere umano. Poiché questo stato è quello in cui ci troviamo attualmente, è da qui che dobbiamo effettivamente partire se ci proponiamo di raggiungere la realizzazione metafisica, a qualunque grado sia, ed è questa la ragione essenziale per cui dobbiamo prendere in considerazione specialmente questo caso. Avendo d'altronde sviluppato in precedenza queste considerazioni, non vi insisteremo più, tanto più che il nostro stesso saggio permetterà di comprenderle ancora meglio. D'altra parte, per evitare ogni possibile confusione, dobbiamo ricordare fin da ora che quando parliamo di stati multipli dell'essere, si tratta non di una semplice molteplicità numerica o, più in generale, quantitativa, ma di una molteplicità di ordine trascendentale o universale, applicabile a tutti gli ambiti che costituiscono i differenti mondi o gradi dell'esistenza, considerati separatamente o nel loro insieme, dunque al di fuori o al di là dell'ambito speciale del numero e anche della quantità in tutte le sue forme. In effetti la quantità e a maggior ragione il numero che è solo una delle sue forme, cioè la quantità discontinua, è solo una delle condizioni determinanti di certi stati tra cui il nostro, non potrebbe dunque essere trasportata ad altri stati e ancora meno essere applicata all'insieme degli stati che sfugge evidentemente a una tale determinazione. È per questo che quando parliamo di una moltitudine indefinita, dobbiamo sempre aver cura di rimarcare che l'indefinitezza di cui si parla supera ogni numero e anche tutto quello a cui la quantità è più o meno direttamente applicabile, come l'indefinitezza spaziale o temporale, che rileva ugualmente solo delle condizioni proprie del nostro mondo. Si impone anche un'altra considerazione riguardo l'impiego che facciamo della parola essere, che a rigore non può applicarsi nel suo senso stretto quando si tratta di certi stati di non manifestazione di cui parleremo e che sono al di là del grado dell'essere puro. Siamo tuttavia costretti, a causa della costituzione stessa del linguaggio umano, a conservare questo termine in simili casi, in mancanza di un altro più adeguato, ma gli attribuiamo allora solo un valore puramente analogico e simbolico, senza di che ci sarebbe impossibile parlare in un modo qualunque della cosa, e questo è un esempio chiarissimo delle carenze d'espressione cui alludevamo poco fa. È così che potremo, come abbiamo già fatto altrove, continuare a parlare dell'essere totale come manifestato in altri stati, senza che questo implichi affatto che per questi ultimi ci limitiamo a considerare il grado di quello che è propriamente dell'essere con la E maiuscola. A questo proposito ricorderemo che il fatto di fermarsi all'essere e non considerare niente al di là, come se fosse in qualche modo il principio supremo, il più universale di tutti, è uno dei tratti caratteristici di certi concetti occidentali dell'antichità e del medioevo, che pur contenendo incontestabilmente una parte di metafisica che non si ritrova più nelle concezioni moderne, restano assai incompleti sotto questo rapporto, anche perché si presentano come delle teorie stabilite da se stesse e non in vista di una realizzazione effettiva corrispondente. Questo non vuol dire certamente che non ci sia altro in Occidente, parliamo solo di quello che è generalmente noto e di cui alcuni, pur facendo dei lodevoli sforzi per reagire contro la negazione moderna, hanno la tendenza a esagerare il valore e la portata, non rendendosi conto che si tratta ancora solo di punti di vista tutto sommato esterni e che nelle civiltà in cui, come è il caso, si è creata una sorta di frattura tra ordini di insegnamento che si sovrappongono senza mai opporsi, l'esoterismo richiede l'esoterismo come suo complemento necessario. Quando questo esoterismo è misconosciuto, la civiltà, non essendo più attaccata direttamente ai principi superiori con qualche legame effettivo, non tarda a perdere ogni carattere tradizionale, perché gli elementi di quest'ordine che ancora vi sussistono sono paragonabili a un corpo abbandonato dallo spirito e di conseguenza impotente ormai a costituire qualcosa di più di una sorta di vuoto formalismo. È esattamente quello che è capitato al mondo occidentale moderno. Date queste spiegazioni, pensiamo di poter entrare nel nostro soggetto senza più tardare in preliminari che tutte le considerazioni che abbiamo esposto altrove ci permettono di dispensare in gran parte. Non è possibile in effetti ritornare indefinitamente su quello che è stato detto nelle nostre opere precedenti, cosa che sarebbe solo tempo perso. E se nei fatti certe ripetizioni sono inevitabili, dobbiamo sforzarci di ridurle a quello che è strettamente indispensabile alla comprensione di quello che ci proponiamo di esporre adesso, salvo rimandare il lettore ogni volta che ce ne sarà bisogno a quella parte delle nostre altre opere in cui potrà trovare delle indicazioni complementari o più ampi sviluppi sulle questioni che affronteremo di nuovo. La principale difficoltà dell'esposizione è che tutte queste questioni sono legate in effetti più o meno strettamente le une alle altre e se è importante mostrare questo legame il più spesso possibile, d'altra parte non è meno importante evitare ogni apparenza di sistematicità, vale a dire di limitazione incompatibile con la natura stessa della dottrina metafisica, che deve al contrario aprire a chi è capace di comprenderla e di assentirla delle possibilità di concezioni non solo indefinite ma, possiamo dirlo senza alcun abuso di linguaggio, realmente infinite come la verità totale stessa. Primo, l'infinito e la possibilità. Per ben comprendere la dottrina della molteplicità degli stati dell'essere è necessario risalire, prima di ogni altra considerazione, alla nozione più primordiale di tutte, quella dell'infinito metafisico, considerato nei suoi rapporti con la possibilità universale. L'infinito è, secondo il significato etimologico del termine che lo designa, ciò che non ha limiti e, per mantenere a questo termine il suo senso stretto, occorre riservarne rigorosamente l'impiego alla designazione di quello che non ha assolutamente alcun limite, escludendo tutto quello che è solo sottratto a certe limitazioni particolari, pur restando soggetto ad altre limitazioni in virtù della sua stessa natura a cui queste ultime sono essenzialmente inerenti, come lo sono dal punto di vista logico, che nel complesso non fa che tradurre a modo suo il punto di vista che si può chiamare ontologico, degli elementi che intervengono nella stessa definizione di cui si tratta. Quest'ultimo caso è in particolare, come abbiamo già avuto occasione di indicare in più riprese, quello del numero, dello spazio, del tempo, anche nei concetti più generali e più estesi possibili, e che superano di molto le idee e i concetti che se ne hanno comunemente. Tutto questo non può mai essere in realtà che dominio dell'indefinito. Nota. Occorre aver cura di rimarcare che diciamo generali e non universali, perché si tratta qui solo di condizioni speciali di certi stati di esistenza e niente più. Questo solo deve bastare a far comprendere che in un caso del genere non si può parlare di infinità, perché queste condizioni sono evidentemente limitate come gli stati stessi a cui si applicano e che concorrono a definire. È questo indefinito a cui alcuni, quando è di ordine quantitativo come negli esempi che abbiamo fatto, danno abusivamente il nome di infinito matematico, come se l'aggiunta di un epiteto o di una qualifica determinante alla parola infinito non implicasse per se stessa una contraddizione pura e semplice. Nota. Se ci capita talvolta di dire infinito metafisico, precisamente per sottolineare in modo più esplicito che non si tratta del cosiddetto infinito matematico o di altre contraffazioni di infinito, se è permesso di parlare così, una tale espressione non cade sotto l'obiezione che formuliamo qui, perché l'ordine metafisico è realmente illimitato, di modo che esso non ha alcuna determinazione, ma al contrario l'affermazione di ciò oltrepassa ogni determinazione, mentre chi dice matematico restringe perciò stesso il concetto ad un ambito speciale e limitato, quello della quantità. Di fatto questo indefinito, procedendo dal finito di cui non è che una estensione o sviluppo, ed essendo di conseguenza sempre riducibile al finito, non è in alcun modo paragonabile al vero infinito, non più di quanto l'individualità, umana o no, pur con tutti i prolungamenti indefiniti di cui è suscettibile, possa esserlo con l'essere totale. Questa formazione dell'indefinito a partire dal finito, di cui si ha un esempio chiarissimo nella produzione della serie dei numeri, non è possibile in effetti che a condizione che il finito contenga già potenzialmente l'infinito, e quando anche i limiti fossero allungati fino a perderli di vista, vale a dire finché sfugano i nostri mezzi attuali di misura, essi non sono affatto soppressi per questo motivo. È ben evidente, in ragione della natura stessa della relazione causale, che il più non può derivare dal meno, né l'infinito dal finito. E non può essere altrimenti, quando si tratta, come nel caso che consideriamo, di certi ordini di possibilità particolari, che sono manifestamente limitati dalla coesistenza con altri ordini di possibilità, dunque in virtù della loro stessa natura, che prevede alcune possibilità determinate, e non tutte le possibilità senza nessuna restrizione. Se non fosse così, la coesistenza di un'infinità di altre possibilità, che non sono comprese nelle prime, e di cui ognuna è d'altronde parimenti suscettibile di uno sviluppo indefinito, sarebbe un'impossibilità, vale a dire un'assurdità nel senso logico del termine. Nota. L'assurdo, nel senso logico e matematico, è ciò che implica contraddizione, equivale dunque all'impossibile, perché è l'assenza di contraddizione interna, che logicamente e anche ontologicamente definisce la possibilità. L'infinito, al contrario, per essere veramente tale, non può ammettere nessuna restrizione, cosa che suppone che sia assolutamente incondizionato e indeterminato, perché ogni determinazione, qualunque sia, è forzatamente una limitazione, per il motivo stesso che lascia qualcosa al di fuori di essa, vale a dire tutte le altre determinazioni ugualmente possibili. La limitazione d'altronde presenta il carattere di una vera negazione. Porre un limite è negare, per quello che vi è racchiuso, tutto quello che questo limite esclude. Di conseguenza, la negazione di un limite è propriamente la negazione di una negazione, vale a dire, logicamente e anche matematicamente, un'affermazione, in tal modo che la negazione di ogni limite equivale in realtà all'affermazione totale e assoluta. Ciò che non ha limiti è ciò di cui nulla si può negare, dunque ciò che tutto contiene, ciò al di fuori del quale non c'è niente. E questa idea dell'infinito, che è anche la più affermativa di tutte, poiché comprende e racchiude tutte le affermazioni particolari, quali che siano, si esprime con un termine di forma negativa, proprio per la sua assoluta indeterminatezza. Nel linguaggio, in effetti, ogni affermazione diretta è forzatamente un'affermazione particolare e determinata, l'affermazione di qualcosa, mentre l'affermazione totale e assoluta non corrisponde a nessuna affermazione particolare ad esclusione di altre, poiché le implica tutte in ugual modo. Ed è facile intuire fin da ora il rapporto molto stretto fra questo e la possibilità universale, che comprende allo stesso modo tutte le possibilità particolari. L'idea dell'infinito, come è stata da noi enunciata, nota, non diciamo come è stata da noi definita, perché sarebbe evidentemente contraddittorio pretendere di dare una definizione dell'infinito, e abbiamo mostrato altrove che il punto metafisico stesso, in ragione del suo carattere universale e illimitato, non è più suscettibile di essere definito. Dunque, l'idea dell'infinito come è stata da noi enunciata, dal punto di vista puramente metafisico, non è assolutamente discutibile né contestabile, perché non può racchiudere in sé nessuna contraddizione, per lo stesso motivo che non ha niente di negativo. Essa inoltre è necessaria, nel senso logico del termine, perché la sua negazione sarebbe contraddittoria. Nota. Si deve distinguere questa necessità logica, che è l'impossibilità che una cosa non sia o sia diversamente da ciò che è, indipendentemente da ogni condizione particolare, dalla necessità detta fisica o necessità di fatto, che è semplicemente l'impossibilità per le cose o gli esseri di conformarsi alle leggi del mondo a cui appartengono, e che di conseguenza è subordinata alle condizioni da cui quel mondo è definito, e vale soltanto all'interno di questo ambito specifico. Certi filosofi, avendo argomentato molto giustamente contro il preteso infinito matematico, e avendo mostrato tutte le contraddizioni che implica questa idea, contraddizioni che spariscono d'altronde se ci si rende conto che si tratta solo dell'indefinito, credono di aver provato per questo motivo l'impossibilità dell'infinito metafisico. Tutto quello che provano in realtà, con questa confusione, è la loro completa ignoranza su quest'ultimo. In effetti, se si considera il tutto in senso universale assoluto, è evidente che non può essere limitato in alcun modo, perché potrebbe esserlo solo da qualcosa di esterno, e se esistesse qualcosa di esterno adesso, allora non sarebbe il tutto. È importante notare d'altronde che il tutto, in questo senso, non deve assolutamente essere assimilato a un tutto particolare determinato, vale a dire a un insieme composto di parti che stanno con lui in un rapporto definito. È, propriamente parlando, senza parti, poiché dovendo essere queste parti necessariamente relative e finite, non potrebbero avere con lui nessuna misura comune, né di conseguenza nessun rapporto, il che equivale a dire che esse non esistono per l'infinito, e questo basta a mostrare che non si deve cercare di formarsene alcun concetto particolare. Nota. In altri termini, il finito, anche se è suscettibile di estensione indefinita, è sempre rigorosamente nulla rispetto all'infinito. Di conseguenza, nessuna cosa o nessun essere può essere considerato come una parte dell'infinito, che è una delle condizioni erronee e che appartiene propriamente al panteismo, perché l'impiego stesso della parola parte suppone l'esistenza di un rapporto definito col tutto. Ciò che bisogna evitare, soprattutto, è di concepire il tutto universale a mo' di una somma aritmetica, ottenuta con la somma delle sue parti prese una ad una e successivamente. D'altronde, anche quando si tratta di un tutto particolare, ci sono due casi da distinguere. Un tutto vero è logicamente anteriore alle sue parti e ne è indipendente. Un tutto concepito come logicamente posteriore alle sue parti di cui è la somma, costituisce in realtà quello che i filosofi scolastici chiamano un ens rationis, la cui esistenza come tutto è subordinata alla condizione di essere pensato effettivamente come tale. Nel primo caso, il tutto ha in sé un principio di unità reale superiore alla molteplicità delle sue parti, mentre nel secondo non ha altra unità che quella che noi gli attribuiamo nel pensiero. Quanto abbiamo detto del tutto universale, nella sua indeterminazione più assoluta, si applica anche quando lo si considera dal punto di vista della possibilità. E a dire il vero non si tratta di una determinazione, o perlomeno si tratta del minimo di determinazione richiesta per renderla realmente concepibile e soprattutto in certa misura esprimibile. Come abbiamo avuto occasione di indicare altrove, un limite della possibilità totale è, nel senso stretto della parola, impossibile, perché dovendo includere la possibilità per limitarla non potrebbe esservi compreso, e ciò che è fuori del possibile non può essere altro che impossibile, ma un'impossibilità, non essendo altro che una negazione pura e semplice, un vero niente, non può evidentemente limitare che che sia, e da questo consegue immediatamente che la possibilità universale è necessariamente illimitata. Occorre però fare attenzione, d'altronde, perché questo è naturalmente applicabile solo alla possibilità universale e totale, che è ciò che potremmo chiamare un aspetto dell'infinito, da cui non è distinta in nessun modo né in nessuna misura, non può esserci niente che sia al di fuori dell'infinito, perché ciò sarebbe una limitazione, e in quel caso non sarebbe più l'infinito. Il concetto di una pluralità di infiniti è un'assurdità, poiché essi si limiterebbero reciprocamente, di modo che in realtà nessuno di essi sarebbe infinito. Dunque, quando diciamo che la possibilità universale è infinita o illimitata, occorre intendere con questo che essa è l'infinito stesso, considerato sotto un certo aspetto, nella misura in cui è consentito dire che ci sono aspetti dell'infinito. Poiché l'infinito è veramente senza parti, a rigore non si può nemmeno parlare di una molteplicità di aspetti che esistono realmente e distintamente in esso. Siamo noi, a dire il vero, che concepiamo l'infinito sotto un tale o tal'altro aspetto, perché non c'è possibile fare altrimenti, e anche se la nostra concezione non fosse essenzialmente limitata, come è finché siamo in uno stato individuale, dovrebbe forzatamente limitarsi per divenire esprimibile, perché per questo deve rivestirsi di una forma determinata. Però quello che importa è che comprendiamo bene da dove viene la limitazione e da cosa dipende, per attribuirla solo alla nostra imperfezione o piuttosto a quella degli strumenti interni di cui disponiamo attualmente in quanto a essere individuali, che come tali possiedono solo un'esistenza definita e condizionata, e senza farsi trasportare da questa imperfezione, puramente contingente e transitoria, come le condizioni da cui discende, nell'ambito illuminato della stessa possibilità universale. Aggiungiamo ancora un'ultima affermazione. Se parliamo dell'infinito e della possibilità come correlati, non è per stabilire tra questi due termini una distinzione che non potrebbe esistere realmente. È perché l'infinito è allora considerato più in particolare sotto il suo aspetto attivo, mentre la possibilità è il suo aspetto passivo. Ma che sia considerato da noi come attivo o come passivo è sempre l'infinito, che non può essere influenzato da questi punti di vista contingenti, e le determinazioni, qualunque sia il principio per cui le si effettuano, esistono qui solo in rapporto alla nostra concezione. Nel complesso è la stessa cosa che abbiamo chiamato altrove, secondo la terminologia della dottrina dell'estremo oriente, la perfezione attiva, kien, e la perfezione passiva, kuen, perché la perfezione in senso assoluto è identica all'infinito inteso in tutta la sua indeterminazione, e come abbiamo detto allora, sono analoghe, ma ad un altro grado e da un punto di vista molto più universale, a quelle che sono nell'essere, l'essenza e la sostanza. Nota. Deve essere ben compreso fin da ora che l'essere non racchiude tutta la possibilità, e di conseguenza non può assolutamente essere identificato con l'infinito. È per questo che diciamo che il punto di vista a cui ci poniamo qui è molto più universale di quello in cui prendiamo in considerazione solo l'essere. È stato qui indicato solo per evitare ogni confusione, perché avremo in seguito occasione di spiegarci più ampiamente. Secondo, possibili e compassibili. La possibilità universale, abbiamo detto, è illimitata, e non può essere altro che illimitata. Volerla concepire altrimenti è dunque in realtà condannarsi a non concepirla del tutto. E questo fa sì che tutti i sistemi filosofici dell'Occidente moderno siano ugualmente impotenti dal punto di vista metafisico, vale a dire universale, e questo precisamente in quanto sistemi, come abbiamo già fatto notare occasionalmente a più riprese. Sono in effetti, come tali, solo delle concezioni ristrette e chiuse che possono, per qualcuno dei loro elementi, avere un certo valore in un ambito relativo, ma che diventano pericolosi e falsi quando, presi nel loro insieme, pretendono qualcosa di più e vogliono farsi passare per una espressione della realtà totale. Senza dubbio è sempre legittimo considerare specialmente, se lo si giudica appropriato, certi ordini di possibilità ad esclusione di altri, ed è nel complesso quello che fa necessariamente una scienza qualunque, ma quello che non è legittimo è affermare che quello sia tutta la possibilità e negare quello che supera la misura della propria comprensione individuale più o meno limitata. Nota. Si deve sottolineare in effetti che ogni sistema filosofico si presenta come essenzialmente opera di un individuo, contrariamente a quello che avviene per le dottrine tradizionali, riguardo alle quali le individualità non contano niente. Eppure è questo in vario grado il carattere essenziale di questa forma sistematica che sembra inerente a tutta la filosofia occidentale moderna, ed è una delle ragioni per cui il pensiero filosofico, nel senso comune della parola, non ha potuto avere niente in comune con le dottrine di ordine puramente metafisico. Tra i filosofi che, in ragione di questa tendenza sistematica e veramente antimetafisica, si sono sforzati di limitare in un modo o nell'altro la possibilità universale, alcuni, come Leibniz, che è tuttavia uno di quelli le cui visioni sono le meno chiuse sotto molti rapporti, hanno voluto usare a questo riguardo la distinzione tra possibili e compossibili. Ma resta fin troppo evidente che questa distinzione, nella misura in cui è applicabile in modo valido, non può affatto servire a questo fine illusorio. In effetti i compossibili non sono altro che dei possibili compatibili tra loro, vale a dire la cui riunione in uno stesso insieme complesso non introduce all'interno di esso nessuna contraddizione. Di conseguenza la compossibilità è sempre essenzialmente relativa all'insieme di cui si tratta. È ben inteso d'altronde che questo insieme può essere sia quello dei caratteri che costituiscono tutti gli attributi di un oggetto particolare o di un essere individuale, sia qualcosa di molto più generale e più esteso, l'insieme di tutte le possibilità sottomesse a certe condizioni comuni e che appunto per questo formano un certo ordine definito, uno degli ambiti compresi nell'esistenza universale. Ma in tutti i casi occorre che si tratti di un insieme che sia sempre determinato, altrimenti la distinzione non si applicherebbe più. Così, per fare subito un esempio di ordine particolare ed estremamente semplice, un quadrato tondo è un'impossibilità, perché la riunione di due possibili quadrato e tondo in una stessa figura implica contraddizione. Ma questi due possibili sono ugualmente realizzabili e allo stesso titolo, perché l'esistenza di una figura quadrata non impedisce evidentemente l'esistenza simultanea accanto ad essa e nello stesso spazio di una figura rotonda, non più che ogni altra figura geometricamente concepibile. Nota. Allo stesso modo, per fare un esempio di ordine più esteso, le diverse geometrie euclidee e non euclidee possono evidentemente applicarsi ad uno stesso spazio, ma questo non può impedire le differenti modalità di spazi a cui corrispondono di coesistere nell'integralità della possibilità spaziale, in cui ciascuna di esse deve realizzarsi a modo suo, secondo quello che spiegheremo sull'identità effettiva del possibile e del reale. Tutto questo pare fin troppo evidente perché sia necessario insistervi ancora, ma un tal esempio, proprio per la sua stessa semplicità, ha il vantaggio di aiutare a comprendere, per analogia, ciò che si riferisce a casi apparentemente più complessi, come quello di cui parleremo ora. Se invece di un oggetto, di un essere particolare, si considera quello che possiamo chiamare un mondo, secondo il senso già da noi attribuito a questa parola, vale a dire tutto l'ambito formato da un certo insieme di compassibili che si realizzano nella manifestazione, questi compassibili dovranno essere tutti i possibili che soddisfano certe condizioni, che caratterizzeranno e definiranno precisamente il mondo di cui si tratta, costituendo uno dei gradi dell'esistenza universale. Gli altri possibili, che non sono determinati dalle stesse condizioni e che di conseguenza non possono far parte dello stesso mondo, evidentemente non sono per questo meno realizzabili, anche se ben inteso ognuno secondo il modo che conviene alla sua natura. In altri termini, ogni possibile ha la sua esistenza propria come tale. Nota. Si deve ben intendere che non prendiamo qui la parola esistenza nel suo senso rigoroso e conforme alla sua derivazione etimologica, senso che si applica strettamente solo all'essere condizionato e contingente, vale a dire, nel complesso alla manifestazione. Impieghiamo questa parola, come facciamo a volte con quella di essere stesso, come abbiamo già detto all'inizio, in un modo puramente analogico e simbolico, perché ci aiuta in una certa misura a far comprendere quello di cui si tratta, benché in realtà sia estremamente inadeguata. Riprendiamo quindi. In altri termini, ogni possibile ha la sua esistenza propria come tale e i possibili, la cui natura implica una realizzazione nel senso che si intende comunemente, vale a dire un'esistenza in un modo qualunque di manifestazione, intendendo adesso l'esistenza nel senso proprio e rigoroso della parola, non possono perdere quel carattere che è loro essenzialmente inerente e divenire irrealizzabili per il fatto che altri possibili sono effettivamente realizzati. Si può ancora dire che ogni possibilità che sia una possibilità di manifestazione deve necessariamente manifestarsi. Ogni possibilità che non deve manifestarsi è una possibilità di non manifestazione. In questa forma sembra che sia solo una questione di semplice definizione e tuttavia l'affermazione precedente non comportava altro che questa verità assiomatica che non può essere messa in discussione. Se ci si domandasse però perché non tutte le possibilità devono manifestarsi, vale a dire perché a volte ci sono delle possibilità di manifestazione e delle possibilità di non manifestazione, basterebbe rispondere che l'ambito della manifestazione, essendo limitato per il fatto stesso di essere un insieme di mondi o di stati condizionati, d'altronde in moltitudine indefinita, non può esaurire la possibilità universale nella sua totalità. Lascia al di fuori di sé tutto l'incondizionato, vale a dire precisamente quello che metafisicamente conta di più. In quanto a chiedersi poi perché tale possibilità non si debba manifestare come le altre, questo equivarrebbe semplicemente a domandarsi perché essa è quello che è e non un'altra. È dunque esattamente come ci chiedessimo perché tale essere è lui stesso e non un altro essere, cosa che sarebbe certamente una domanda priva di senso. Quello che occorre comprendere bene a questo riguardo è che una possibilità di manifestazione non ha come tale nessuna superiorità su una possibilità di non manifestazione, non è l'oggetto di una sorta di scelta o di preferenza, è semplicemente di un'altra natura. Nota. Una tale idea è metafisicamente ingiustificabile e può derivare solo da un'intrusione del punto di vista morale in un ambito con cui non ha a che fare. Così il principio del migliore a cui Leibniz fa appello in questa occasione è propriamente antimetafisico, come abbiamo già fatto notare incidentalmente altrove nel simbolismo della croix. Se ora si vuole obiettare a proposito dei compassibili che secondo l'espressione di Leibniz esiste un solo mondo, ci sono due possibilità. O questa affermazione è una pura tautologia o non ha alcun senso. In effetti se per mondo si intende qui l'universo totale o anche limitandosi alle possibilità di manifestazione, l'ambito intero di tutte queste possibilità, vale a dire l'esistenza universale, l'enunciato è fin troppo evidente, sebbene il modo in cui si esprime sia forse improprio. Ma se si intende con questa parola un certo insieme di compassibili, come si fa comunemente e come abbiamo fatto noi stessi, è altrettanto assurdo dire che la sua esistenza impedisce la coesistenza di altri mondi, che sarebbe, per riprendere il nostro esempio precedente, come dire che l'esistenza di una figura rotonda impedisce la coesistenza di una figura quadrata o triangolare o di tutt'altro genere. Tutto quello che si può dire è che, come le caratteristiche di un oggetto determinato escludono da questo oggetto la presenza di altri caratteri con i quali sarebbero in contraddizione, così le condizioni per cui si definisce un mondo determinato escludono da questo mondo i possibili la cui natura non implica una realizzazione soggetta a quelle stesse condizioni. Questi possibili sono perciò al di fuori dei limiti del mondo considerato, ma non sono per questo esclusi dalla possibilità, poiché si tratta di possibili per ipotesi e nemmeno nei casi più ristretti dell'esistenza nel senso stretto del termine, vale a dire intesa comprendente tutto l'ambito della manifestazione universale. Ci sono nell'universo dei modi di esistenza multipli ed ogni possibile è il modo che conviene alla sua natura. Quanto a parlare come si fa a volte e precisamente riferendosi alla concezione di Leibniz, pur scostandosi indubbiamente alquanto dal suo pensiero di una sorta di lotta per l'esistenza tra le possibili, è una concezione che non ha certamente niente di metafisico e questo tentativo di trasposizione di quello che non è che una semplice ipotesi biologica, in connessione con le moderne teorie evoluzionistiche, è anzi del tutto incomprensibile. La distinzione del possibile e del reale, su cui molti filosofi hanno tanto insistito, non ha dunque alcun valore metafisico. Ogni possibile è reale a modo suo e secondo il modo che la sua natura comporta. Nota. Quello che vogliamo dire è che non si può metafisicamente considerare il reale come costituente un ordine differente dal possibile, ma occorre rendersi conto d'altronde che questa parola, reale, è in sé assai vaga se non equivoca, almeno nell'uso che se ne fa nel linguaggio ordinario e anche dalla maggior parte dei filosofi. Noi siamo stati portati a impiegarla qui solo perché era necessario evitare la distinzione volgare del possibile e del reale. Arriveremo tuttavia di conseguenza a darle un significato molto più preciso. Riprendiamo. La distinzione del possibile e del reale, su cui molti filosofi hanno tanto insistito, non ha dunque alcun valore metafisico. Ogni possibile è reale a modo suo e secondo il modo che la sua natura comporta. Altrimenti ci sarebbero dei possibili che non sarebbero niente. E dire che un possibile è un niente è una contraddizione pura e semplice. È l'impossibile e l'impossibile solo che è, come abbiamo già detto, un puro niente. Negare che ci siano delle possibilità di non manifestazione è voler limitare la possibilità universale. D'altra parte, negare che tra le possibilità di manifestazione ce ne siano di ordini differenti è volerla limitare ancora più strettamente. Prima di spingerci oltre, faremo notare che invece di considerare l'insieme delle condizioni che determinano un mondo, come abbiamo fatto in precedenza, potremo anche, dallo stesso punto di vista, considerare isolatamente una di queste condizioni, per esempio tra le condizioni del mondo corporale, lo spazio, considerato come il contenente delle possibilità spaziali. Nota. È importante notare che la condizione spaziale non basta da sola definire un corpo come tale. Ogni corpo è necessariamente esteso, vale a dire sottomesso allo spazio, da cui risulta la sua divisibilità indefinita, che porta alla rovina con sé la concezione atomista, ma, contrariamente a quello che hanno preteso Descartes e altri partigiani di una fisica meccanica, l'espressione non costituisce affatto tutta la natura o l'essenza dei corpi. È evidente che per la sua stessa definizione non ci sono che le possibilità spaziali che possano realizzarsi nello spazio, ma è non meno evidente che questo non impedisce alle possibilità non spaziali di realizzarsi ugualmente, e qui, limitandoci alle possibilità realizzarsi, deve essere preso come sinonimo di manifestarsi, al di fuori di quella condizione particolare di esistenza che è lo spazio. Eppure, se lo spazio fosse infinito, come certi pretendono, non ci sarebbe posto nell'universo per nessuna possibilità non spaziale, e logicamente il pensiero stesso, per fare l'esempio più comune e più noto di tutti, potrebbe essere ammesso all'esistenza solo alla condizione di essere concepito come esteso, concezione di cui la psicologia profana stessa riconosce la falsità senza alcuna esitazione. Ma a ben lungi da essere infinito, lo spazio non è che uno dei modi possibili di manifestazione, che essa stessa non è infinita, anche nell'integralità della sua estensione, con l'indefinitezza dei modi che comporta, e di cui ognuno è esso stesso indefinito. Osservazioni simili si applicherebbero a qualsiasi altra condizione speciale di esistenza, e quello che è vero per ognuna di queste condizioni prese a parte, lo è anche per l'insieme di molte condizioni la cui riunione o combinazione determina un mondo. Va da sé d'altronde che le differenti condizioni così riunite sono compatibili tra loro, e la loro compatibilità implica evidentemente quella dei possibili che comprendono rispettivamente, con la restrizione che i possibili che sono sottomessi all'insieme delle condizioni considerate, possono costituire una parte di quelli che sono compresi in ognuna delle stesse condizioni considerate isolatamente dalle altre, da cui risulta che queste condizioni, nella loro integrità, comporteranno, oltre alla loro parte comune, dei prolungamenti in diversi sensi appartenenti ancora allo stesso grado dell'esistenza universale. Questi prolungamenti di estensione indefinita corrispondono, nell'ordine generale cosmico, a quelli che sono, per un essere particolare, quelli di uno dei suoi stati, per esempio di uno stato individuale considerato integralmente, al di là di una certa modalità definita di quello stesso stato, come la modalità corporale nella nostra individualità umana. Terzo, l'essere e il non essere. In quello che precede abbiamo indicato la distinzione tra possibilità di manifestazione e possibilità di non manifestazione, essendo ugualmente comprese le une e le altre, e allo stesso titolo, nella possibilità totale. Questa distinzione ci si impone prima di ogni altra distinzione più particolare, come quella dei diversi modi della manifestazione universale, vale a dire dei diversi ordini di possibilità, che comporta ripartiti secondo le condizioni speciali a cui sono rispettivamente sottomessi e costituenti la moltitudine indefinita dei mondi o dei gradi dell'esistenza. Detto questo, se si definisce l'essere in senso universale come il principio della manifestazione e nello stesso tempo come comprendente l'insieme di tutte le possibilità di manifestazione, dobbiamo dire che l'essere non è infinito, poiché non coincide con la possibilità totale. E questo, tanto più che l'essere, in quanto principio della manifestazione, comprende in effetti tutte le possibilità di manifestazione, ma solamente quelle che si manifestano. Al di fuori dell'essere c'è dunque tutto il resto, vale a dire tutte le possibilità di non manifestazione, insieme alle possibilità di manifestazione stesse finché non si sono manifestate. L'essere stesso vi si trova incluso perché, non potendo appartenere alla manifestazione poiché ne è il principio, è esso stesso non manifestato. Per designare quello che è al di fuori e al di là dell'essere, siamo costretti in mancanza di ogni altro termine a chiamarlo non essere. E questa espressione negativa, che per noi non è assolutamente sinonimo di niente, come parrebbe nel linguaggio di certi filosofi, oltre ad essere direttamente ispirata dalla terminologia della dottrina metafisica dell'Estremo Oriente, è sufficientemente giustificata dalla necessità di impiegare una denominazione qualunque per poterne parlare, unita all'affermazione già prima fatta che le idee più universali, essendole più indeterminate, possono esprimersi, nella misura in cui sono esprimibili, solo con termini che sono di forma negativa, come abbiamo già visto riguardo all'infinito. Si può dire anche che il non essere, nel senso che abbiamo appena indicato, è più dell'essere, o se vogliamo che è superiore all'essere, se con questo intendiamo che quello che comprende è al di là dell'estensione dell'essere, e che contiene in principio l'essere stesso. Soltanto dal momento che opponiamo il non essere all'essere, o anche che semplicemente li distinguiamo, vuol dire che nell'uno o nell'altro sono infiniti, poiché da quel punto di vista si limitano l'un l'altro in qualche modo. L'infinità appartiene solo all'insieme dell'essere e del non essere, poiché questo insieme è identico alla possibilità universale. Possiamo ancora esprimere le cose in questo modo. La possibilità universale contiene necessariamente la totalità delle possibilità, e si può dire che l'essere e il non essere sono i suoi due aspetti, l'essere in quanto manifesta le possibilità, o più esattamente alcune tra loro, il non essere in quanto non le manifesta. L'essere contiene dunque tutto il manifestato, il non essere contiene tutto il non manifestato, compreso l'essere stesso, ma la possibilità universale comprende allo stesso tempo l'essere e il non essere. Aggiungiamo che il non manifestato comprende quello che possiamo chiamare il non manifestabile, vale a dire le possibilità di non manifestazione e il manifestabile, cioè le possibilità di manifestazione in quanto non si manifestano, poiché la manifestazione comprende evidentemente solo l'insieme di queste stesse possibilità in quanto si manifestano. In quello che concerne i rapporti dell'essere e del non essere, è essenziale rimarcare che lo stato di manifestazione è sempre transitorio e condizionato, e che anche per le possibilità che comportano la manifestazione, lo stato di non manifestazione è il solo assolutamente permanente e incondizionato. Nota, deve essere ben inteso che quando diciamo transitorio non consideriamo esclusivamente e neanche principalmente la successione temporale, perché quella si applica solo a un modo speciale di manifestazione. Aggiungiamo a questo proposito che niente di quello che è manifesto può perdersi, secondo un'espressione spesso impiegata, se non per il passaggio nel non manifestato. E ben inteso questo stesso passaggio, che quando si tratta della manifestazione individuale è propriamente la trasformazione nel senso etimologico della parola, vale a dire il passaggio al di là della forma, costituisce una perdita solo dal punto di vista speciale della manifestazione, poiché nello stato di non manifestazione tutte le cose al contrario sussistono eternamente in principio, indipendentemente da tutte le condizioni particolari e limitative che caratterizzano il tale o il talaltro modo dell'esistenza manifestata. Soltanto per poter dire giustamente che niente si perde, sia pure con la restrizione concernente il non manifestato, occorre considerare tutto l'insieme della manifestazione universale e non semplicemente il tale o il talaltro dei suoi stati ad esclusione degli altri, perché in ragione della continuità di tutti questi stati tra loro può sempre esserci un passaggio dall'uno all'altro senza che questo passaggio continuo, che è solo un cambiamento di modo, che implica un cambiamento corrispondente nelle condizioni di esistenza, ci faccia in alcun modo uscire dall'ambito della manifestazione. Nota. Sulla continuità degli stati dell'essere vedi le simbolismi della croix. Quello che abbiamo detto deve mostrare che i pretesi principi della conservazione della materia e della conservazione dell'energia, qualunque sia la forma sotto la quale li si esprimono, non sono in realtà che delle semplici leggi fisiche assolutamente relative e approssimative e che allo stesso interno dell'ambito speciale a cui si applicano possono essere vere solo sotto certe condizioni restrittive, condizioni che sussisterebbero ancora mutatis mutandis se si vogliono estendere queste leggi, trasponendo convenientemente i termini a tutto l'ambito della manifestazione. I fisici sono d'altronde costretti a riconoscere che si tratta in qualche modo solo di casi limite, nel senso che tali leggi sarebbero rigorosamente applicabili solo a quelli che si chiamano sistemi chiusi, vale a dire a qualcosa che di fatto non esiste e non può esistere, perché è impossibile realizzare o anche solo concepire all'interno della manifestazione un insieme che sia completamente isolato da tutto il resto, senza comunicazione né scambio di alcun genere con ciò che si trova al suo esterno. Una soluzione di continuità di questo tipo sarebbe una vera lacuna nella manifestazione, in quanto tale insieme sarebbe come inesistente in rapporto al resto. In quanto alle possibilità di non manifestazione, esse appartengono essenzialmente al non essere e, per la loro stessa natura, non possono rientrare nell'ambito dell'essere, contrariamente a quello che avviene per le possibilità di manifestazione. Ma come abbiamo detto prima, questo non implica nessuna superiorità delle une sulle altre, poiché le une e le altre hanno solo dei modi di realtà differenti e conformi alle loro rispettive nature. E la distinzione stessa tra essere e non essere è tutto sommato puramente contingente, poiché può essere fatta solo dal punto di vista della manifestazione, che è essa stessa essenzialmente contingente. Questo, d'altronde, non diminuisce niente l'importanza che questa distinzione ha per noi, dato che per noi, nel nostro stato attuale, non c'è possibile assumere realmente un punto di vista diverso da questo, che è il nostro finché apparteniamo, come esseri condizionati e individuali, all'ambito della manifestazione e che possiamo superare solo liberandoci interamente tramite la realizzazione metafisica dalle condizioni limitative dell'esistenza individuale. Come esempio di una possibilità di non manifestazione possiamo citare il vuoto, perché una tale possibilità è concepibile almeno negativamente, vale a dire escludendo certe determinazioni. Il vuoto implica l'esclusione non solo di ogni attributo corporale o materiale, né soltanto, in modo più generale, di ogni qualità formale, ma anche di tutto quello che si rapporta a un modo qualunque di manifestazione. È dunque un non senso pretendere che ci possa essere del vuoto in ciò che è compreso nella manifestazione universale, in qualunque stato, poiché il vuoto appartiene essenzialmente all'ambito della non manifestazione. Non è possibile dare a questo termine un'altra accezione intelligibile. Dobbiamo a questo riguardo limitarci a questa semplice indicazione perché non possiamo trattare qui la questione del vuoto con tutti gli sviluppi che comporterebbe e che ci allontanerebbero troppo dal nostro soggetto, dato che è soprattutto a proposito dello spazio che essa porta a volte a delle gravi confusioni, le considerazioni che vi si riferiscono troveranno meglio il loro posto nello studio che ci proponiamo specialmente di consacrare alle condizioni dell'esistenza corporea. Nota. Il concetto di uno spazio vuoto è contraddittorio, cosa che, notiamo di passaggio, costituisce una prova sufficiente della realtà dell'elemento etere, akasha, contrariamente alla teoria dei buddhisti a quella dei filosofi fisici greci che ammettevano solo quattro elementi corporali. Dal punto di vista a cui ci poniamo adesso dobbiamo semplicemente aggiungere che il vuoto, qualunque sia il modo in cui lo consideriamo, non è il non essere ma solo quello che possiamo chiamare uno dei suoi aspetti, vale a dire una delle possibilità che racchiude e che sono diverse dalle possibilità comprese nell'essere. Dunque al di fuori di quest'ultimo, anche considerato nella sua totalità, cosa che dimostra ancora che l'essere non è infinito. D'altronde, quando diciamo che una tale possibilità costituisce un aspetto del non essere, occorre tenere a mente che non può essere concepita in modo distintivo, poiché questo modo si applica esclusivamente alla manifestazione, e questo spiega perché, anche se potessimo effettivamente concepire questa possibilità che è il vuoto o un'altra dello stesso ordine, non potremmo mai darle che un'espressione tutta negativa. Questa affermazione assolutamente generale per tutto ciò che si riferisce al non essere, giustifica ancora una volta l'impiego che facciamo di questo termine. Delle considerazioni simili potrebbero dunque applicarsi ad ogni altra possibilità di non manifestazione. Potremmo fare un altro esempio, come il silenzio, ma applicarvi questa considerazione sarebbe troppo facile perché sia utile insistervi. Ci limiteremo dunque a questo proposito a far osservare qui, come il non essere o il non manifestato comprende o avvolge l'essere o il principio della manifestazione, così il silenzio comporta in sé stesso il principio della parola. In altri termini, come l'unità, l'essere, non è che lo zero metafisico, il non essere affermato, così la parola è solo il silenzio espresso, ma inversamente lo zero metafisico, pur essendo l'unità non affermata, è anche qualcosa di più, anzi di infinitamente di più. E così il silenzio, che ne è un aspetto nel senso che abbiamo appena precisato, non è semplicemente la parola non espressa, poiché occorre che in esso sussista quello che è inesprimibile, vale a dire non suscettibile di manifestazione, perché chi dice espressione dice manifestazione e anche manifestazione formale, e dunque di determinazione in modo istintivo. Nota, è l'inesprimibile e non l'incomprensibile, come lo si crede volgarmente, che è designato primitivamente dalla parola pistero, che in greco significa tacersi, essere silenzioso. Alla stessa radice verbale mu, da cui il latino mutus, muto, si collega la parola mito, che prima di essere deviata dal suo senso fino a indicare solo un racconto fantastico, significava quello che, non essendo suscettibile di esprimersi direttamente, poteva essere solo suggerito da una rappresentazione simbolica, verbale o figurata. Il rapporto così stabilito tra il silenzio non manifestato e la parola manifestata mostra come è possibile concepire delle possibilità di non manifestazione che corrispondono per trasposizione analogica a certe possibilità di manifestazione, senza pretendere d'altronde in alcun modo, neanche qui, di introdurre nel non essere una distinzione effettiva, che non si può trovare, poiché l'esistenza in modo distintivo, che è l'esistenza nel senso proprio della parola, è essenzialmente inerente alle condizioni della manifestazione. Il modo distintivo d'altronde non è qui in tutti i casi necessariamente sinonimo di modo individuale, perché quest'ultimo implica specialmente la distinzione formale. Nota. Si potrebbe considerare allo stesso modo le tenebre, in un senso superiore, come quello che è al di là della manifestazione luminosa, mentre nel loro senso inferiore e più abituale sono semplicemente, nel manifestato, l'assenza o la privazione della luce, vale a dire qualcosa di puramente negativo. Il colore nero ha d'altronde nel simbolismo degli usi effettivamente connessi a questo doppio significato. Si potrà rimarcare che le due possibilità di non manifestazione che abbiamo considerato qui corrispondono all'abisso e al silenzio di certe scuole dell'ognosticismo alessandrino, che sono in effetti degli aspetti del non essere. Quarto. Fondamento della teoria degli stati multipli. Quello che precede contiene in tutta la sua universalità il fondamento della teoria degli stati multipli. Se consideriamo un essere qualunque nella sua totalità, esso dovrà comportare, almeno virtualmente, degli stati di manifestazione e degli stati di non manifestazione, perché solo in questo senso si può parlare veramente di totalità. In caso contrario, si è in presenza di qualcosa di incompleto e frammentario che non può veramente costituire l'essere totale. Nota. Come abbiamo indicato all'inizio, se si vuole parlare dell'essere totale, occorre, ovunque questo termine non sia propriamente applicabile, chiamarlo ancora analogicamente un essere, in mancanza di un altro termine più adeguato a nostra disposizione. La non manifestazione, abbiamo detto prima, è la sola che possiede il carattere di permanenza assoluta. È dunque da essa che la manifestazione, nella sua condizione transitoria, trae tutta la sua realtà. E da questo si vede che il non essere, lungi dall'essere il niente, sarebbe esattamente tutto il contrario, se a volte il niente potesse avere un contrario, cosa che gli attribuirebbe ancora un certo grado di positività, mentre non è che la negatività assoluta, vale a dire la pura impossibilità. Nota. Il niente non si oppone dunque all'essere, contrariamente a quello che si dice comunemente, è alla possibilità che si opporrebbe se potesse entrare alla stregua di un termine reale in una qualunque opposizione. Ma poiché non è così, non c'è niente che possa opporsi alla possibilità, cosa che è facilmente comprensibile dal momento che la possibilità è in realtà identica all'infinito. Stando così le cose ne risulta che sono essenzialmente gli stati di non manifestazione che assicurano all'essere la permanenza e l'identità. E al di fuori di questi stati, vale a dire se si considera cioè l'essere solo all'interno della manifestazione, senza ricondurlo al suo principio non manifestato, questa permanenza e questa identità possono essere solo illusorie, poiché l'ambito della manifestazione è propriamente l'ambito del transitorio e del multiplo, soggetto a modificazioni continue e indefinite. Da questo si comprenderà facilmente cosa si deve pensare, dal punto di vista metafisico, della pretesa unità dell'io, vale a dire dell'essere individuale che è così indispensabile alla psicologia occidentale e profana. Da una parte è un'unità frammentaria, poiché si riferisce solo a una parte dell'essere, a uno dei suoi stati preso isolatamente e arbitrariamente tra una indefinitezza di altri, e ancora questo stato è ben lungi dall'essere considerato comunemente nella sua interezza. E d'altra parte questa unità, anche considerando soltanto lo stato speciale cui si riferisce, è del tutto relativa, poiché questo stato si compone esso stesso di una indefinitezza di modificazioni diverse e ha tanto meno realtà quanto si prescinde dal principio trascendente, il sé o la personalità, che solo potrebbe conferirgliela veramente, mantenendo l'identità dell'essere in modo permanente attraverso tutte queste modificazioni. Gli stati di non manifestazione sono dell'ambito del non essere e gli stati di manifestazione sono dell'ambito dell'essere considerato nella sua integralità. Si può anche dire che questi ultimi corrispondono ai diversi gradi dell'esistenza, non essendo poi altro che i modi differenti, in molteplicità indefinita, della manifestazione universale. Per stabilire qui una distinzione netta tra l'essere e l'esistenza, dobbiamo, secondo quanto abbiamo già detto, considerare l'essere come propriamente il principio stesso della manifestazione. L'esistenza universale sarà allora la manifestazione integrale dell'insieme delle possibilità che l'essere comporta e che sono d'altronde tutte le possibilità di manifestazione, e questo implica lo sviluppo effettivo di queste possibilità in modo condizionato. Perciò l'essere racchiude l'esistenza ed è metafisicamente più di essa, poiché ne è il principio. L'esistenza non è dunque identica all'essere, perché questo corrisponde a un minor grado di determinazione e di conseguenza ha un più alto grado di universalità. Nota, ricordiamo ancora che esistere nell'accezione etimologica di questa parola, dal latino ex stare, è propriamente essere dipendente o condizionato, e dunque insomma non avere in se stesso il suo proprio principio, la sua ragione sufficiente, quello che è bene il caso della manifestazione, così come spiegheremo in seguito, definendo la contingenza in modo più preciso. Benché l'esistenza sia essenzialmente unica, e questo perché l'essere in se stesso è uno, essa non di meno comprende la molteplicità indefinita dei modi della manifestazione, perché essa li comprende tutti ugualmente, perché tutti sono ugualmente possibili, implicando questa possibilità che ognuno di essi debba essere realizzato secondo le condizioni che li sono proprie. Come abbiamo detto altrove, parlando di questa unicità dell'esistenza, secondo gli insegnamenti dell'esoterismo islamico, risulta da questo che l'esistenza nella sua stessa unicità comporta una indefinità di gradi corrispondenti a tutti i modi della manifestazione universale, che è in fondo la stessa cosa dell'esistenza stessa, e questa molteplicità indefinita dei gradi dell'esistenza implica come correlato, per un qualunque essere considerato nell'intero ambito dell'esistenza, una molteplicità ugualmente indefinita di stati di manifestazione possibili, ciascuno dei quali deve realizzarsi in un grado determinato dell'esistenza universale. Lo stato di un essere è dunque lo sviluppo di una possibilità particolare compresa in un certo grado, grado che è definito dalle condizioni a cui è sottoposta la possibilità di cui si tratta, considerata come realizzantesi nell'ambito della manifestazione. Nota, questa restrizione è necessaria perché nella sua essenza non manifestata questa stessa possibilità non può evidentemente essere sottomessa a tale condizione. Perciò ogni stato di manifestazione di un essere corrisponde a un grado dell'esistenza e questo stato comporta inoltre delle modalità diverse, secondo le differenti combinazioni delle condizioni di cui è suscettibile uno stesso modo generale di manifestazione. Infine, ogni modalità comprende essa stessa una serie indefinita di modificazioni secondarie ed elementari. Per esempio, se consideriamo l'essere in quello stato particolare che è l'individualità umana, la parte corporea di questa individualità è solo una modalità e questa modalità è determinata non precisamente da una condizione speciale di esistenza, ma da un insieme di condizioni che ne delimitano le possibilità, condizioni il cui insieme definisce il mondo sensibile o corporeo. Nota. È quello che la dottrina hindù designa come ambito della manifestazione grossolana. Gli dà a volte anche il nome di mondo fisico, ma questa espressione è equivoca e se si può giustificare per il senso moderno della parola fisico che si applica in effetti solo a quello che concerne le sole qualità sensibili, pensiamo che si debba sempre conservare a questa parola il suo senso antico ed etimologico da Fisus, natura. Quando la intendiamo così, la manifestazione sottile non è meno fisica della manifestazione grossolana, perché la natura, vale a dire propriamente l'ambito del divenire, è in realtà identica alla manifestazione universale tutta intera. Come abbiamo già indicato, ognuna di queste condizioni, considerata isolatamente dalle altre, può estendersi al di là del dominio di questa modalità e, sia per sua propria estensione, sia per la sua combinazione con delle condizioni differenti, costituire allora gli ambiti di altre modalità facenti parte della stessa individualità integrale. D'altra parte, ogni modalità deve essere considerata come suscettibile di svilupparsi nel percorso di un certo ciclo di manifestazione e, per la modalità corporea in particolare, le modificazioni secondarie che comporta questo sviluppo saranno tutti i momenti della sua esistenza considerata sotto l'aspetto della successione temporale, oppure, che è lo stesso, tutti gli atti e tutti i gesti, quali che siano, che compirà nel corso di questa esistenza. È quasi superfluo insistere sul poco spazio che occupa l'io individuale nella totalità dell'essere, poiché anche in tutta l'estensione che può acquisire, quando lo si considera nella sua integralità e non solamente in una modalità particolare come la modalità corporale, ne costituisce solo uno stato come gli altri e tra una indefinità di altri, e questo anche quando ci limitiamo a considerare gli stati di manifestazione, ma inoltre questi sono, dal punto di vista metafisico, quelli che hanno meno importanza nell'essere totale per le ragioni che abbiamo dato sopra. Nota. Si potrebbe dunque dire che l'io, con tutti i prolungamenti di cui è suscettibile, ha incomparabilmente minore importanza di quanta gliene attribuiscano gli psicologi e i filosofi occidentali moderni, pur avendo delle possibilità indefinitamente più estese di quanto essi non credano e nemmeno suppongano. Tra gli stati di manifestazione ce ne sono certi, diversi dall'individualità umana, che possono essere ugualmente degli stati individuali, vale a dire formali, mentre altri sono stati non individuali o informali. La natura di ognuno è determinata, come il suo posto nell'insieme gerarchicamente organizzato dell'essere, dalle condizioni che li sono proprie, poiché si tratta sempre di stati condizionati per il motivo stesso che sono manifestati. Quanto agli stati di non manifestazione è evidente che, non essendo sottomessi alla forma né ad alcuna altra condizione di un modo qualunque di esistenza manifestata, sono essenzialmente extra-individuali. Possiamo dire che costituiscono quello che c'è di veramente universale in ogni essere, dunque ciò per cui ogni essere si collega, nella sua interezza, al suo principio metafisico e trascendente, collegamento senza il quale ci sarebbe solo un'esistenza tutta contingente e, in fondo, puramente illusoria. Quinto. Rapporti tra l'unità e la molteplicità. Nel non essere non può esserci una questione di molteplicità di stati, poiché essenzialmente l'ambito dell'indifferenziato è anche del non condizionato. Il non condizionato non può essere sottomesso alle determinazioni dell'uno e del multiplo e l'indifferenziato non può esistere in modo distintivo. Se tuttavia parliamo di stato di non manifestazione, non è per stabilire con l'espressione una sorta di simmetria con gli stati di manifestazione, cosa che sarebbe ingiustificata e artificiale, ma è perché siamo costretti a introdurre in qualche modo una distinzione, altrimenti non potremmo parlare neanche. Soltanto dobbiamo renderci ben conto che questa distinzione non esiste di per sé, ma siamo noi che le diamo la sua esistenza tutta relativa, ed è solo così che possiamo considerare quelli che abbiamo chiamato degli aspetti del non essere, facendo d'altronde risaltare tutto quello che una tale espressione ha di improprio e di inadeguato. Nel non essere non c'è molteplicità e a rigore non c'è neanche unità, perché il non essere è lo zero metafisico a cui siamo costretti a dare un nome per parlarne e che è logicamente anteriore all'unità. È per questo che la dottrina hindù parla solo a questo riguardo di non dualità advaita, cosa che d'altronde deve ancora essere riportato a quello che abbiamo detto in precedenza sull'impiego dei termini in forma negativa. È essenziale sottolineare a questo riguardo che lo zero metafisico non ha rapporti con lo zero matematico, che è solo il segno di quello che si può chiamare un niente di quantità, non più di quanti l'infinito vero ne abbia col semplice indefinito, vale a dire la quantità indefinitamente crescente o indefinitamente decrescente. E questa assenza di rapporti, se si può dire così, è esattamente dello stesso ordine nell'uno e nell'altro caso, con questa riserva tuttavia, che lo zero metafisico non è che un aspetto dell'infinito, almeno ci ha permesso di considerarlo come tale in quanto contiene in principio l'unità e di conseguenza tutto il resto. Nota. Questi due casi dell'indefinitamente crescente e dell'indefinitamente decrescente sono quelli che corrispondono in realtà a quello che Pascal ha così impropriamente chiamato i due infiniti. Conviene insistere sul fatto che l'uno e l'altro non ci fanno affatto uscire dall'ambito quantitativo. Infatti, l'unità primordiale non è che lo zero affermato, o in altri termini, l'essere universale, che è questa unità, non è che il non essere affermato, nella misura in cui è possibile una tale affermazione, che è già una prima determinazione, perché è la più universale di tutte le affermazioni definite, dunque condizionate, e questa prima determinazione, preliminare ad ogni manifestazione e ad ogni particolarizzazione, compresa la polarizzazione in essenza e sostanza, che è la prima dualità e come tale il punto di partenza di ogni molteplicità, contiene in principio tutte le altre determinazioni o affermazioni distintive, corrispondenti a tutte le possibilità di manifestazione. Vale a dire che l'unità, da quando è affermata, contiene in principio la molteplicità, pur è essa stessa il principio immediato di questa molteplicità. Nota. Ricordiamo ancora, perché non sarà mai troppo insistervi, che l'unità di cui si tratta qui è l'unità metafisica o trascendentale, che si applica all'essere universale come un attributo coestensivo adesso per impiegare il linguaggio dei logici, benché la nozione di estensione e quella di comprensione che gli è correlata non siano più propriamente applicabili al di là delle categorie o dei generi più generali, vale a dire quando si passa dal generale all'universale, e che come tale differisce essenzialmente dall'unità matematica o numerica, applicandosi solo questa all'ambito quantitativo. E lo stesso vale per la molteplicità, secondo la nostra precedente affermazione. C'è solo analogia e non identità né similitudine tra le nozioni metafisiche di cui parliamo e le nozioni matematiche corrispondenti. La designazione delle une e delle altre con dei termini comuni non esprime in realtà niente più di questa analogia. Ci si è spesso domandato e abbastanza vanamente come la molteplicità possa derivare dall'unità, senza accorgerci che la questione così posta non comporta nessuna soluzione, per la semplice ragione che è malposta, e sotto questa forma non corrisponde a nessuna realtà. Di fatto la molteplicità non deriva dall'unità più di quanto l'unità non derivi dallo zero metafisico, o più di quanto qualcosa non derivi dal tutto universale, o che qualche possibilità possa trovarsi al di fuori dell'infinito o della possibilità totale. Nota. È per questo che pensiamo di dover evitare il più possibile l'impiego di un termine come quello di emanazione, che evoca un'idea o piuttosto un'immagine falsa, quella di una derivazione dal principio. La molteplicità è compresa nell'unità primordiale e non cessa di esservi compresa per il fatto del suo sviluppo in modo manifestato. Questa molteplicità è quella delle possibilità di manifestazione e non può essere concepita altrimenti che come tale, perché è la manifestazione che implica l'esistenza distintiva, e d'altra parte, poiché si tratta di possibilità, occorre bene che esse esistano nel modo che è implicato dalla loro natura. Perciò il principio della manifestazione universale, pur essendo uno, anzi, l'unità in sé stessa, contiene necessariamente la molteplicità, e questa in tutti i suoi sviluppi definiti, e compiendosi indefinitamente secondo una indefinità di direzioni, procede tutta intera dall'unità primordiale, nella quale resta sempre compresa, e che non può essere per niente affetto modificata dall'esistenza in essa di questa molteplicità, perché non potrebbe evidentemente cessare di essere essa stessa per un effetto della sua propria natura, ed è anzi proprio perché è l'unità che implica essenzialmente le possibilità multiple in questione. Nota. Va da sé che la parola di direzioni, improntata alla considerazione delle possibilità spaziali, deve essere intesa qui simbolicamente, perché in senso letterale si applicerebbe solo ad un'infima parte delle possibilità di manifestazione. Il senso che le diamo ora è in conformità a tutto quello che abbiamo esposto nel simbolismo della croix. È dunque nell'unità stessa che la molteplicità esiste, e se non influenza l'unità, è perché ha un'esistenza tutta contingente in rapporto ad essa. Possiamo anzi dire che questa esistenza, se non la ricolleghiamo all'unità come abbiamo fatto, è puramente illusoria, è l'unità sola che, essendo il suo principio, le dà tutta la realtà di cui è suscettibile. E l'unità stessa a sua volta non è un principio assoluto e sufficiente a sé stesso, ma è dallo zero metafisico che trae la sua propria realtà. L'essere, essendo la prima affermazione, la determinazione più primordiale, non è il principio supremo di tutte le cose, è, lo ripetiamo, solo il principio della manifestazione, e da questo si vede quanto il punto di vista metafisico sia limitato da coloro che pretendono di ridurlo esclusivamente alla sola ontologia. Prescindere quindi dal non essere vuol dire escludere tutto quello che è più veramente e puramente metafisico. Detto questo di passaggio, concluderemo così in quello che riguarda il punto che abbiamo trattato. L'essere è uno in sé stesso e di conseguenza l'esistenza universale, che è la manifestazione integrale delle sue possibilità, è unica nella sua essenza e natura intima, ma né l'unità dell'essere né l'unicità dell'esistenza escludono la molteplicità dei modi della manifestazione, da cui l'indefinitezza dei gradi dell'esistenza, nell'ordine generale cosmico, è quella degli stati dell'essere, nell'ordine delle esistenze particolari. Nota, non diciamo individuali, perché in tale ordine vengono compresi anche gli stati di manifestazione informale che sono sopra individuali. Dunque la considerazione degli stati multipli non è affatto in contraddizione con l'unità dell'essere, non più di quanto lo sia con l'unicità dell'esistenza che è fondata su questa unità, poiché nell'una nell'altra sono affette in che che sia dalla molteplicità. E da questo risulta che in tutto l'ambito dell'essere la constatazione della molteplicità, lungi dal contraddire l'affermazione dell'unità o di opporvisi in qualche modo, vi trova il solo fondamento valido che possa esserle dato, tanto logicamente che metafisicamente. Sesto, considerazioni analogiche tratte dallo studio dello stato di sogno. Lasceremo ora il punto di vista puramente metafisico, a cui ci siamo posti nel capitolo precedente per considerare la questione dei rapporti dell'unità e della molteplicità, per poter forse far comprendere meglio ancora la natura di questi rapporti attraverso alcune considerazioni analogiche, date qui a titolo d'esempio o piuttosto di illustrazione, se si può dire così, e che mostreranno in quale senso e in quale misura si può dire che l'esistenza della molteplicità è illusoria riguardo all'unità, pur mantenendo ben inteso quel tanto di realtà che comporta la sua natura. Nota. In effetti non ci sono esempi possibili, nel senso stretto della parola, in quello che concerne le verità metafisiche, poiché queste sono universali per essenza e non sono suscettibili di nessuna particolarizzazione, mentre ogni esempio è forzatamente di ordine particolare, in un grado o in un altro. Impronteremo queste considerazioni di carattere più particolare allo studio dello stato di sogno, che è una delle modalità di manifestazione dell'essere umano, corrispondente alla parte sottile, vale a dire non corporea, della sua individualità, e nel quale questo essere produce un mondo che procede tutto intero da lui stesso e i cui oggetti consistono esclusivamente in concetti mentali, per opposizione alle percezioni sensoriali dello stato di veglia, vale a dire in combinazioni di idee rivestite di forme sottili, forme dipendenti d'altronde sostanzialmente dalla forma sottile dell'individuo stesso, i cui oggetti ideali del sogno non sono, nel complesso, che modificazioni accidentali e secondarie. L'uomo nello stato di sogno si situa dunque in un mondo che è interamente immaginato da lui, nota. La parola immaginato deve essere intesa qui nel suo senso più esatto, poiché si tratta essenzialmente nel sogno di una formazione di immagine. Riprendiamo. L'individuo nello stato di sogno si situa dunque in un mondo che è interamente immaginato da lui, di cui tutti gli elementi sono di conseguenza tratti da lui stesso, dalla sua propria individualità più o meno estesa nelle sue modalità extracorporee, come altrettante forme illusorie. Ma ia virupa, come si dice nel Vedanta, e questo anche quando non possiede attualmente la coscienza chiara e distinta. Quale che sia il punto di partenza interiore o d'esteriore, potendo essere molto diverso a seconda dei casi che dà al sogno una certa direzione, gli eventi che si snodano possono risultare solo da una combinazione di elementi contenuti, almeno potenzialmente e come suscettibili di un certo genere di realizzazione, nella comprensione integrale dell'individuo. E se questi elementi, che sono delle modificazioni dell'individuo, sono in moltitudine indefinita, la varietà di tali combinazioni possibile è ugualmente indefinita. Il sogno in effetti deve essere considerato come un modo di realizzazione per delle possibilità che, appartenendo all'ambito dell'individualità umana, non sono suscettibili, per una ragione o per un'altra, di realizzarsi in modo corporale. Tali sono, per esempio, le forme di esseri appartenenti allo stesso mondo ma diversi dall'uomo, forme che questo possiede virtualmente in sé, a causa della posizione centrale che occupa in questo mondo. Queste forme possono evidentemente essere realizzate dall'essere umano solo nello stato sottile e il sogno è il mezzo più ordinario, si potrebbe dire il più normale, di tutti quelli attraverso i quali gli è possibile identificarsi con altri esseri, senza cessare per questo di essere se stesso, come indica il testo taoista. Una volta, racconta Chuan Tse, una notte, fui una farfalla che volteggiava contenta della sua sorte. Poi mi svegliai essendo Chuan Tse. Chi sono in realtà? Una farfalla che sogna di essere Chuan Tse o Chuan Tse che si immagina di essere stata una farfalla. Nel mio caso ci sono due individui reali? C'è stata una reale trasformazione di un individuo in un altro? Nell'uno o nell'altro ci sono due modificazioni irreali dell'essere unico, della norma universale, nella quale tutti gli esseri, nei loro stati, sono uno. Se l'individuo che sogna prende nello stesso tempo, nel corso di questo sogno, una parte attiva agli eventi che si snodano per effetto della sua facoltà immaginativa, vale a dire se gioca un ruolo determinato nella modalità extracorporea del suo essere che corrisponde effettivamente allo stato della sua coscienza chiaramente manifestata o a quella che si potrebbe chiamare la zona centrale di questa coscienza, occorre ammettere altresì che simultaneamente tutti gli altri ruoli sono ugualmente agiti da lui, sia in altre modalità, sia perlomeno in differenti modificazioni secondarie della stessa modalità, appartenenti anche essi alla sua coscienza individuale, se non nel suo stato attuale, limitato, di manifestazione in quanto coscienza, almeno in una qualunque delle sue possibilità di manifestazione, che nel loro insieme abbracciano un campo indefinitamente più esteso. Tutti questi ruoli appaiono naturalmente secondari in rapporto a quello che è il principale per l'individuo, vale a dire quello in cui la sua coscienza attuale è direttamente interessata, e poiché tutti gli elementi del sogno esistono solo per lui, si può dire che sono reali solo in quanto partecipano alla sua propria esistenza, è lui stesso che li realizza come altrettante modificazioni di lui stesso, senza cessare per questo di essere lui stesso indipendentemente da queste modificazioni che non influenzano in niente quello che costituisce l'essenza propria della sua individualità. Inoltre, se l'individuo è cosciente del sogno, vale a dire che tutti gli eventi che si snodano in questo stato hanno in vero la realtà che conferisce loro lui stesso, non ne sarà assolutamente affetto neanche quando vi comparirà come attore e nello stesso tempo spettatore. Precisamente perché non cesserà di essere spettatore per divenire attore, perché la concezione e la realizzazione non sono più separate per la sua coscienza individuale, arrivata ad un grado di sviluppo sufficiente ad abbracciare sinteticamente tutte le modificazioni attuali dell'individualità. Altrimenti le stesse modificazioni possono ancora realizzarsi, ma la coscienza, non collegando più direttamente questa realizzazione alla concezione di cui è un effetto, l'individuo è portato ad attribuire agli eventi una realtà esterna a lui stesso e nella misura in cui egli la attribuisce loro in effetti, è soggetto ad un'illusione la cui causa è in lui stesso, illusione che consiste nel separare la molteplicità di questi eventi da quello che ne è il principio immediato, vale a dire la propria unità individuale. Nota. Le stesse affermazioni possono applicarsi ugualmente al caso dell'allucinazione, in cui l'errore non consiste, come si dice comunemente, nell'attribuire una realtà all'oggetto percepito, perché sarebbe evidentemente impossibile di percepire qualcosa che non esistesse in alcun modo, ma nell'attribuirgli un modo di realtà diverso da quello che è veramente il suo. È insomma una confusione tra l'ordine di manifestazione sottile e quello di manifestazione corporea. Ecco un esempio nettissimo di una molteplicità esistente in un'unità senza che questa ne sia affetta. Sebbene l'unità di cui si tratta sia solo un'unità tutta relativa, quella di un individuo, essa non di meno gioca in rapporto a questa molteplicità un ruolo analogo a quello dell'unità vera e primordiale in rapporto alla manifestazione universale. D'altronde avremmo potuto prendere un altro esempio e anche considerare in questo modo la percezione nello stato di veglia, ma il caso che abbiamo scelto ha su questo il vantaggio di non lasciar spazio a nessuna contestazione in ragione delle condizioni che sono particolari nel mondo del sogno, nel quale l'uomo è isolato da tutte le cose esterne o supposte esterne che costituiscono il mondo sensibile. Nota. Leibniz ha definito la percezione come l'espressione della molteplicità nell'unità, multorum in uno expressio, cosa che è giusta ma ha la condizione di fare le riserve che abbiamo già indicato, sull'unità che conviene attribuire alla sostanza individuale. Vedi le simbolismi della Croix. Con questa restrizione non intendiamo affatto negare l'esteriorità degli oggetti sensibili, che è una conseguenza della loro spazialità. Vogliamo solo indicare che non facciamo qui intervenire la questione del grado di realtà che occorre assegnare a questa esteriorità. Ciò che fa la realtà di questo mondo di sogno è unicamente la coscienza individuale, considerata in tutto il suo sviluppo, in tutte le possibilità di manifestazione che comprende. E d'altronde questa stessa coscienza, così considerata nel suo insieme, comprende questo mondo di sogno allo stesso titolo di tutti gli altri elementi della manifestazione individuale, appartenenti ad una qualunque delle modalità che sono contenute nell'estensione integrale della possibilità individuale. Ora importa rimarcare che se si vuole considerare analogicamente la manifestazione universale, si può solo dire che, come la coscienza individuale fa la realtà di questo mondo speciale, che è costituito da tutte le sue modalità possibili, così c'è anche qualcosa che fa la realtà dell'universo manifestato, ma senza che sia fatto legittimo fare di questo qualcosa l'equivalente di una facoltà individuale o di una condizione specializzata di esistenza, cosa che sarebbe una concezione eminentemente antropomorfica e antimetafisica. È allora qualcosa che non è, di conseguenza, né la coscienza né il pensiero, ma di cui la coscienza e il pensiero sono al contrario dei modi particolari di manifestazione. E se c'è un'indefinità di tali modi possibili, che possono essere considerati come altrettanti attributi, diretti o indiretti dell'essere universale, analoghi in una certa misura a quelli che sono per l'individuo i ruoli giocati nel sogno attraverso le sue modalità o modificazioni multiple, e da cui neppure egli è toccato nella sua natura intima, non c'è alcuna ragione di pretendere di ridurre tutti questi attributi a una o più tra essi, o perlomeno ve ne può essere uno solo, che altro non è che questa tendenza sistematica che abbiamo già denunciato come incompatibile con l'universalità della metafisica. Questi attributi, qualunque siano, sono solo aspetti differenti di questo principio unico che fa la realtà di tutta la manifestazione, perché è l'essere stesso, e la loro diversità esiste solo dal punto di vista della manifestazione differenziata, non dal punto di vista del suo principio dell'essere in sé, che è l'unità primordiale e vera. Questo è vero anche per la distinzione più universale che si possa fare nell'essere, quella dell'essenza e della sostanza, che sono come i due poli di tutta la manifestazione. A maggior ragione lo è per aspetti molto più particolari, dunque più contingenti e di importanza secondaria. Qualunque valore possano prendere agli occhi dell'individuo, quando questo li consideri dal suo punto di vista speciale, sono, parlando propriamente, solo dei semplici accidenti nell'universo. Nota. Facciamo qui allusione in particolare alla distinzione dello spirito e della materia, come la pone dopo Descartes tutta la filosofia occidentale che è arrivata a voler assorbire tutta la realtà sia nei due termini di questa distinzione, sia nell'uno o l'altro solo di questi due termini, sopra i quali è incapace di elevarsi. Settimo. Le possibilità della coscienza individuale. Quello che abbiamo detto riguardo allo stato di sogno ci porta a parlare un po' in un modo generale delle possibilità che comporta l'essere umano nei limiti della sua individualità. E più particolarmente delle possibilità di questo stato individuale considerato sotto l'aspetto della coscienza, che costituisce una delle sue caratteristiche principali. Ben inteso, non è dal punto di vista psicologico che intendiamo porci qui, sebbene esso possa essere definito dalla coscienza, considerata come un carattere inerente a certe categorie di fenomeni che si producono nell'essere umano, o, se si preferisce un modo di parlare più immaginifico, come il contenitore di questi stessi fenomeni. Nota. Il rapporto da contenente a contenuto, preso nel suo senso letterale, è un rapporto spaziale, ma qui deve essere inteso in un modo tutto figurato, poiché quello di cui si tratta è senza estensione e non si situa nello spazio. Lo psicologo, d'altronde, non deve preoccuparsi di cercare quello che può essere in fondo la natura di questa coscienza, non più di quanto il geometra cerchi cos'è la natura dello spazio, che prende come un dato incontestabile e che egli considera semplicemente come il contenitore di tutte le forme che studia. In altri termini, la psicologia deve occuparsi solo di quello che possiamo chiamare la coscienza fenomenica, vale a dire la coscienza considerata esclusivamente nei suoi rapporti con i fenomeni, e senza domandarsi se è o no l'espressione di qualcosa di un altro ordine, che, per la sua stessa definizione, non appartiene più all'ambito psicologico. Nota, risulta da questo che la psicologia, per quanto alcuni possano pretendere, ha esattamente lo stesso carattere di relatività di qualsiasi altra scienza speciale contingente e non ha maggiori rapporti con la metafisica. Non si deve d'altronde dimenticare che è solo una scienza tutta moderna e profana, senza legame con qualsivoglia conoscenza tradizionale. Per noi la coscienza è tutt'altra cosa che per lo psicologo, essa non costituisce uno stato di essere particolare e non è d'altronde il solo carattere distintivo dello stato individuale umano. Anche nello studio di questo stato, o più precisamente delle sue modalità extracorporee, non c'è dunque possibile ammettere che tutto si rapporti a un punto di vista più o meno simile a quello della psicologia. La coscienza sarebbe piuttosto una condizione dell'esistenza in certi stati, ma non strettamente nel senso in cui parliamo per esempio di condizioni dell'esistenza corporea. Si potrebbe dire in modo più esatto, anche se potrebbe sembrare strano a prima vista, che è una ragione d'essere per gli stati di cui si tratta, perché è manifestamente quello per cui l'essere individuale partecipa dell'intelligenza universale, buddi della dottrina hindu, ma naturalmente è alla facoltà mentale individuale, manas, che è inerente sotto la sua forma determinata come aankara e di conseguenza in altri stati la stessa partecipazione dell'essere all'intelligenza universale può tradursi in tutt'altro modo. La coscienza, di cui non pretendiamo d'altronde di dare qui una definizione completa, è dunque qualcosa di speciale sia nello stato umano sia in altri stati individuali più o meno analoghi a quello. Nota. Capita in effetti per cose di cui ognuno ha per sé stesso una nozione sufficientemente chiara, come in questo caso, che la definizione appaia come più complessa e più oscura della cosa stessa. Di conseguenza non è affatto un principio universale e se costituisce tuttavia una parte integrante e un elemento necessario dell'esistenza universale, lo ha esattamente allo stesso titolo di tutte le condizioni proprie di qualsiasi stato di essere, senza che possieda a questo riguardo il minimo privilegio, come non ne hanno gli stati a cui si riferisce in rapporto agli altri stati. Malgrado queste restrizioni essenziali, la coscienza, nello stato individuale umano, è non di meno come questo stato stesso, suscettibile di un'estensione indefinita e anche nell'uomo ordinario, vale a dire in quello che non ha sviluppato in modo speciale le sue modalità extracorporee, si estende effettivamente molto più lontano di quanto si supponga comunemente. Si ammette abbastanza generalmente, è vero che la coscienza realmente chiara e distinta non sia tutta la coscienza, che ne è solo una porzione più o meno considerevole e che quello che lascia al di fuori può superarla molto in estensione e in complessità. Ma se gli psicologi riconoscono volentieri l'esistenza di una subcoscienza, se perfino ne abusano a volte come di un mezzo di spiegazione troppo comodo, facendovi rientrare indistintamente tutto quello che non sanno dove classificare fra i fenomeni che studiano, si sono sempre dimenticati di considerare una supercoscienza. Come se la coscienza non potesse prolungarsi altrettanto bene in alto che in basso, ammesso che le nozioni relative al basso e all'alto abbiano un senso qualunque, ed è verosimile che debbano averne uno, almeno dal punto di vista speciale degli psicologi. Nota. Certi psicologi hanno tuttavia impiegato questo termine di supercoscienza, ma non intendono con esso altro che la coscienza normale, chiara e distinta per opposizione alla subcoscienza. In queste condizioni non è che un neologismo perfettamente inutile. Al contrario, quello che intendiamo per supercoscienza è veramente simmetrico della subcoscienza in rapporto alla coscienza ordinaria, e allora questo termine non è più il sinonimo di un altro. Notiamo d'altronde che subcoscienza e supercoscienza non sono in realtà l'una e l'altra che dei semplici prolungamenti della coscienza, che non ci fanno uscire dal suo ambito integrale e che di conseguenza non possono in alcun modo essere assimilati all'incosciente, vale a dire a quello che è al di fuori della coscienza, ma devono al contrario essere comprese nella nozione completa della coscienza individuale. In queste condizioni la coscienza individuale può bastare a rendere conto di tutto quello che dal punto di vista mentale accade nell'ambito dell'individualità, senza che si debba fare appello all'ipotesi bizzarra di una pluralità di coscienze, che alcuni sono arrivati a intendere nel senso di un polipsichismo letterale. È vero che l'unità dell'io, come la si considera comunemente, è ugualmente illusoria, ma se è così è proprio per la pluralità e la complessità esistenti nel seno stesso della coscienza, che si prolunga in modalità di cui alcune possono essere molto lontane e oscure, come quelle che costituiscono quello che si può chiamare la coscienza organica, e come anche la maggior parte di quelle che si manifestano nello stato di sogno. Da un altro lato, l'estensione indefinita della coscienza rende completamente inutili certe teorie strane che hanno visto la luce nella nostra epoca e che la loro impossibilità metafisica basta a far rifiutare completamente. Non intendiamo qui parlare solo delle ipotesi più o meno reincarnazioniste e di tutte quelle che sono loro paragonabili, perché implicano una simile limitazione della possibilità universale su cui abbiamo già avuto occasione di spiegarci con tutti gli sviluppi necessari. Pensiamo più in particolare all'ipotesi trasformista, che del resto ha ora perso molta della considerazione immeritata di cui ha goduto per un certo tempo. Nota. Il successo di questa teoria fu d'altronde dovuto per una buona parte a delle ragioni che non hanno niente di scientifico, ma che dipendono direttamente dal suo carattere antitradizionale. Per le stesse ragioni si può prevedere che, quando anche nessun biologo serio vi crederà più, essa resisterà a lungo nei manuali scolastici e nelle opere di volgarizzazione. Per precisare questo punto senza dilungarci oltremisura, faremo rimarcare che la pretesa legge del parallelismo dell'ontogenia e della filogenia, che è uno dei principali postulati del trasformismo, suppone prima di tutto che vi sia realmente una filogenia o una filiazione della specie, cosa che non è un fatto ma un'ipotesi tutta gratuita. Il solo fatto che può essere constatato è la realizzazione di certe forme organiche da parte dell'individuo durante il suo sviluppo embrionale e, dal momento che le realizza in questo modo, non ha bisogno di averle realizzate già in sedicenti esistenze successive e non è più necessario che la specie a cui appartiene le abbia realizzate per lui durante uno sviluppo a cui, in quanto individuo, non avrebbe potuto prendere parte alcuna. D'altronde, messe da parte le considerazioni embriologiche e la concezione degli stati moltipli ci permette di considerare tutti questi stati come esistenti simultaneamente in uno stesso essere e non come percorsi successivamente nel corso di una discendenza che passerebbe non solo da un essere a un altro ma addirittura da una specie all'altra. Nota. Deve essere ben inteso che l'impossibilità di cambiamento delle specie si applica solo alle specie vere che non coincidono sempre con quelle che sono designate come tali nelle classificazioni degli zoologi e dei botanici, potendo questi prendere a torto per specie distinte quelle che in realtà sono varietà di una stessa specie. L'unità della specie è in un senso più vera e più essenziale di quella dell'individuo, cosa che si oppone alla realtà di una tale discendenza. Nota. Questa affermazione può sembrare abbastanza paradossale di primo acchito, ma si giustifica sufficientemente quando si considera il caso dei vegetali e quello di certi animali detti inferiori, come i polipi e i vermi, in cui è quasi impossibile riconoscere se ci si trova in presenza di uno o più individui e di determinare in che misura questi individui siano veramente distinti gli uni dagli altri, mentre i limiti di specie, al contrario, appaiono sempre piuttosto nettamente. Riprendiamo. L'unità della specie è in un senso più vera e più essenziale di quella dell'individuo, cosa che si oppone alla realtà di una tale discendenza. Al contrario, l'essere che come individuo appartiene a una specie determinata è non di meno allo stesso tempo indipendente da questa specie nei suoi stati extra-individuali e può anche, senza andare così lontano, avere dei legami stabiliti con altre specie per dei semplici prolungamenti dell'individualità. Ad esempio, come abbiamo detto in precedenza, l'uomo che riveste una certa forma in sogno fa per questo di questa forma una modalità secondaria della sua propria individualità e di conseguenza la realizza effettivamente secondo il solo modo in cui questa realizzazione gli è possibile. Ci sono anche da questo stesso punto di vista altri prolungamenti individuali che sono di un ordine molto differente e che presentano un carattere piuttosto organico, ma questo ci porterebbe troppo lontano e ci limitiamo a indicarli di passaggio. D'altronde, per una confutazione più completa e più dettagliata delle teorie trasformiste, ci si deve rapportare soprattutto allo studio della natura della specie e delle sue condizioni di esistenza, studio che non avremo intenzione di iniziare ora. Ma quello che è essenziale rimarcare è che la simultaneità degli stati multipli è sufficiente a provare l'inutilità di tali ipotesi, che sono perfettamente insostenibili se le si considera dal punto di vista metafisico e in cui la mancanza di principio comporta necessariamente la falsità di fatto. Insistiamo più particolarmente sulla simultaneità degli stati dell'essere perché anche per le modificazioni individuali che si realizzano in modo successivo nell'ordine della manifestazione, se non fossero concepite come simultanei in principio, la loro esistenza non potrebbe essere che puramente illusoria. Abbiamo già avuto l'occasione di insistere a sufficienza altrove e abbiamo mostrato che il trascorrere delle forme nel manifestato, a condizione di conservargli il suo carattere tutto relativo e contingente, è pienamente compatibile con la permanente attualità di tutte le cose nel non manifestato. Ottavo, il mentale elemento caratteristico dell'individualità umana. Abbiamo detto che la coscienza, intesa nel suo senso più generale, non è qualcosa che possa essere considerata come rigorosamente propria dell'essere umano come tale, come è suscettibile di caratterizzarlo ad esclusione di tutti gli altri. E c'è in effetti, anche nell'ambito della manifestazione corporea, che rappresenta solo una porzione ristretta dell'esistenza in cui si situa l'essere umano, e di questa parte della manifestazione corporale che ci circonda più immediatamente che costituisce l'esistenza terrestre, una moltitudine di esseri che non appartengono allo spazio umano, ma che presentano tuttavia con loro somiglianze sufficienti sotto molti rapporti perché non si è permesso supporli privi della coscienza, anche presa semplicemente nel suo senso psicologico ordinario. Tale è, ad un grado o ad un altro, il caso di tutte le specie animali, che testimoniano d'altronde manifestamente il possesso della coscienza. È occorsa tutta la cecità che può essere provocata dallo spirito del sistema per far nascere una teoria tanto contraria ad ogni evidenza come lo è la teoria cartesiana degli animali macchine. Forse occorre anche spingersi più lontano e, per gli altri regni organici, se non per tutti gli esseri del mondo corporeo, considerare la possibilità di altre forme della coscienza che appare come legata più specialmente alla condizione vitale, ma questo non importa ora per quello che ci proponiamo di stabilire. Tuttavia è certamente una forma di coscienza, tra tutte quelle che può rivestire, che è propriamente umana, e questa forma determinata, aankara o coscienza dell'io, è quella che è inerente alla facoltà che chiamiamo il mentale, vale a dire precisamente a questo senso interno che è designato in sanscrito col nome di manas e che è veramente la caratteristica dell'individualità umana. Nota. Impieghiamo il termine mentale preferibilmente ad ogni altro perché la sua radice è la stessa di quella del sanscrito manas, che si ritrova nel latino mens, nell'inglese mind, eccetera. D'altronde le numerose vicinanze linguistiche che si possono notare facilmente riguardo a questa radice man o men e ai diversi significati di parole che forma mostrano bene che si tratta di un elemento che è considerato come essenzialmente caratteristico dell'essere umano, poiché la sua designazione serve spesso anche a nominare l'uomo, che implica che questo essere è sufficientemente definito dalla presenza dell'elemento in questione. Questa facoltà è qualcosa di speciale che, come abbiamo spiegato ampiamente in altre occasioni, deve essere accuratamente distinto dall'intelletto puro, il quale deve essere al contrario, in ragione della sua universalità, essere considerato come esistente in tutti gli esseri e in tutti gli stati, qualunque possano essere le modalità attraverso le quali la sua esistenza sarà manifestata. E non si dovrebbe vedere nel mentale niente altro che quello che è veramente, vale a dire, per impiegare il linguaggio dei logici, una differenza specifica pura e semplice, senza che il suo possesso possa comportare di per sé, per l'uomo, una qualche superiorità effettiva sugli altri. In effetti si può parlare di superiorità o di inferiorità per un essere considerato in rapporto ad altri solo in quello che è in comune con quelli, e che implica una differenza non di natura ma solo di gradi, mentre il mentale è precisamente quello che c'è di speciale nell'uomo, ciò che non ha in comune con gli esseri non umani, dunque ciò riguardo a cui egli non può in nessun modo essere confrontato con quelli. L'essere umano potrà dunque indubbiamente, in una certa misura, essere considerato come superiore o inferiore ad altri esseri dal tale o tal'altro punto di vista, superiorità o inferiorità d'altronde sempre relative, ben inteso, ma la considerazione del mentale, dal momento in cui la si fa entrare come differenza nella definizione dell'essere umano, non potrà mai fornire alcun punto di paragone. Per esprimere ancora la stessa cosa in altri termini, possiamo riprendere semplicemente la definizione aristotelica e scolastica dell'uomo come animale ragionevole. Se lo si definisce così, e se si considera allo stesso tempo la ragione, o meglio la razionalità, come propriamente quella che i logici del Medioevo chiamavano una differenzia animalis, è evidente che la presenza di questa non può costituire niente di più che un semplice carattere distintivo. In effetti questa differenza si applica solo nel genere animale, per caratterizzare la specie umana distinguendola essenzialmente da tutte le altre specie di questo stesso genere, ma non si applica agli altri esseri che non appartengono a questo genere, di modo che tali esseri, come gli angeli per esempio, non possono in nessun caso venire detti ragionevoli, e questa distinzione indica solamente che la loro natura è diversa da quella dell'uomo, senza implicare certamente per essi nessuna inferiorità in rapporto a lui. Nota. Vedremo in seguito che gli stati angelici sono propriamente gli stati sopraindividuali della manifestazione, vale a dire quelli che appartengono al dominio della manifestazione informale. D'altra parte è ben inteso che la definizione che abbiamo ricordato si applica all'uomo solo in quanto essere individuale, perché è solo come tale che può essere considerato come appartenente al genere animale, ed è come essere individuale che l'uomo è in effetti caratterizzato dalla ragione, o meglio dal mentale, facendo rientrare in questo termine più esteso la ragione propriamente detta che ne è uno degli aspetti e senza dubbio il principale. Nota. Ricordiamo che la specie è essenzialmente dell'ordine della manifestazione individuale, che è strettamente immanente e a un certo grado definito dell'esistenza universale, e che di conseguenza l'essere le è legato soltanto nel suo stato corrispondente a questo grado. Quando diciamo parlando del mentale o della ragione o, che è più o meno la stessa cosa, del pensiero nella sua forma umana, che sono delle facoltà individuali, va da sé che occorre intendere con questo non delle facoltà che sarebbero proprie di un individuo ad esclusione degli altri o essenzialmente radicalmente differenti in ogni individuo, cosa che sarebbe d'altronde la stessa cosa in fondo, perché allora non si potrebbe dire che sono le stesse facoltà, di modo che si tratterebbe solo di un'assimilazione puramente verbale, ma delle facoltà che appartengono agli individui in quanto tali e che non avrebbero più alcuna ragione di essere se si volesse considerarle al di fuori di un certo stato individuale e di condizioni particolari che definiscono l'esistenza in questo stato. È in questo senso che la ragione, per esempio, è propriamente una facoltà individuale umana, perché se è vero che è in fondo, nella sua essenza, comune a tutti gli uomini, altrimenti non potrebbe evidentemente servire a definire la natura umana e che differisce da un individuo ad un altro solo nella sua applicazione e nelle sue modalità secondarie, appartiene non di meno agli uomini in quanto individui e solo in quanto individui, poiché essa giustamente è caratteristica dell'individualità umana. E occorre stare ben attenti che solo per una trasposizione puramente analogica si può legittimamente considerare in qualche modo la sua corrispondenza nell'universale. Dunque, e vi insistiamo per allontanare ogni confusione possibile, confusione che i concetti razionalisti dell'Occidente moderno rendono anche più facile, se prendiamo la parola ragione allo stesso tempo in un senso universale e in un senso individuale, si deve sempre aver cura di rimarcare che questo doppio impiego di uno stesso termine, che sarebbe del resto preferibile evitare ad essere rigorosi, è solo l'indicazione di una semplice analogia, esprimente la rifrazione di un principio universale, che non è altro che Buddhi, nell'ordine mentale umano. Nota, nell'ordine cosmico la rifrazione corrispondente dello stesso principio ha la sua espressione nel Manu della tradizione Hindu. È solo in virtù di questa analogia, che non è in alcun modo un'identificazione, che si può in un certo senso e sotto la riserva precedente, chiamare ragione anche ciò che nell'universale corrisponde per una trasposizione conveniente alla ragione umana o, in altri termini, quella di cui è l'espressione come traduzione e manifestazione in modo individualizzato. Nota, secondo i filosofi scolastici una trasposizione di questo genere deve essere effettuata tutte le volte che si passa dagli attributi degli esseri creati agli attributi divini, in tal modo che solo analogicamente gli stessi termini possono essere applicati agli uni e agli altri, è semplicemente per indicare che c'è in Dio il principio di tutte le qualità che si trovano nell'uomo o in ogni altro essere, alla condizione ben inteso che si tratti di qualità realmente positive e non di quelle che, essendo solo la conseguenza di una privazione o di una limitazione, hanno solo un'esistenza puramente negativa, qualsiasi siano d'altronde le apparenze e sono di conseguenza prive di principio. D'altronde i principi fondamentali della conoscenza, anche se li si guarda come l'espressione di una sorta di ragione universale intesa nel senso del logos platonico e alessandrino, non di meno passano incomparabilmente oltre l'ambito particolare della ragione individuale, che è esclusivamente una facoltà della conoscenza distintiva e discorsiva e a cui si impongono come dei dati di ordine trascendente, condizionanti necessariamente ogni attività mentale. Nota. La conoscenza discorsiva, opponendosi alla conoscenza intuitiva, è in fondo sinonimo di conoscenza indiretta e immediata, è dunque solo una conoscenza tutta relativa e in qualche modo per riflesso o per partecipazione. In ragione del suo carattere di esteriorità che lascia sussistere la dualità del soggetto e dell'oggetto, essa non potrebbe trovare in sé la garanzia della sua verità, ma la deve ricevere dai principi che la oltrepassano e che sono dell'ordine della conoscenza intuitiva, vale a dire puramente intellettuale. Questo è evidente del resto se si osserva che questi principi non presuppongono nessuna esistenza particolare, ma sono al contrario presupposti logicamente come delle premesse almeno implicite di ogni affermazione vera di ordine contingente. Si può anche dire che in ragione della loro universalità questi principi che dominano ogni logica possibile hanno nello stesso tempo, piuttosto prima di tutto, una portata che si estende ben al di là dell'ambito della logica, perché questa, almeno nella sua accezione abituale filosofica, non è né può essere che un'applicazione più o meno cosciente d'altronde di principi universali alle condizioni particolari dell'intendimento umano individualizzato. Nota. Facciamo questa riserva perché la logica nelle civiltà orientali come quelle dell'India e della Cina presenta un carattere differente che ne fa un punto di vista darsana della dottrina totale e una vera scienza tradizionale. Queste precisazioni, benché si allontanino un po' dal soggetto principale del nostro studio, ci sono sembrate necessarie per far ben comprendere in quale senso diciamo che il mentale è una facoltà o una proprietà dell'individuo come tale, e che questa proprietà rappresenta l'elemento essenzialmente caratteristico dello stato umano. È di proposito, d'altronde, che quando ci capita di parlare di facoltà, lasciamo a questo termine un'accezione assai vaga e indeterminata, è così suscettibile di un'applicazione più generale, in casi in cui non ci sarebbe nessun vantaggio a sostituirla con qualche altro termine più speciale perché definito più nettamente. Per quello che riguarda la distinzione essenziale del mentale dall'intelletto puro, ricorderemo soltanto questo. L'intelletto, nel passaggio dall'universale all'individuale, produce la coscienza, ma questa, essendo dell'ordine individuale, non è affatto identica al principio intellettuale stesso, benché ne proceda immediatamente come risultante dall'intersezione di questo principio con l'ambito speciale di certe condizioni di esistenza per le quali è definita l'individualità considerata. Nota, questa intersezione è, secondo quello che abbiamo esposto altrove, quella del raggio celeste col suo piano di riflessione. D'altra parte, alla facoltà mentale, unita direttamente alla coscienza, appartiene il pensiero individuale, che è di ordine formale e, secondo quello che abbiamo detto, vi comprendiamo sia la ragione che la memoria e l'immaginazione, e che non è affatto inerente all'intelletto trascendente, buddhi, le cui attribuzioni sono essenzialmente informali. Questo mostra chiaramente fino a che punto questa facoltà mentale è in realtà qualcosa di limitato e specializzato, pur essendo suscettibile di sviluppare delle possibilità indefinite. E se è dunque allo stesso tempo molto di meno e molto di più di quanto non lo vorrebbero le concezioni fin troppo semplificate, per non dire semplicistiche, che sono in voga tra gli psicologi occidentali. Nota, è quello che abbiamo già indicato in precedenza come possibilità dell'io e del suo posto nell'essere totale. Nono, la gerarchia delle facoltà individuali. La distinzione profonda dell'intelletto e del mentale consiste essenzialmente, come abbiamo detto, nel fatto che il primo è di ordine universale, mentre il secondo è di ordine puramente individuale. Di conseguenza non possono applicarsi allo stesso ambito né agli stessi oggetti, ed è opportuno a questo riguardo distinguere l'idea informale dal pensiero formale, che ne è solo l'espressione mentale, vale a dire la traduzione in modo individuale. L'attività dell'essere, in questi due ordini differenti che sono l'intellettuale e il mentale, può, pur esercitandosi simultaneamente, arrivare a dissociarsi al punto di renderli completamente indipendenti l'uno dall'altro in quanto alle loro manifestazioni rispettive. Ma possiamo solo segnalarlo qui di passaggio e senza insistervi, perché ogni sviluppo su questo soggetto comporterebbe inevitabilmente di uscire dal punto di vista strettamente teorico a cui intendiamo limitarci attualmente. D'altra parte, il principio psichico che caratterizza l'individualità umana è di una doppia natura. Oltre l'elemento mentale propriamente detto, comprende ugualmente l'elemento sentimentale o emotivo, che evidentemente appartiene al dominio della coscienza individuale, ma che è ancora più staccato dall'intelletto e nello stesso tempo dipendente da condizioni organiche, dunque più prossimo al mondo corporale o sensibile. Questa nuova distinzione, benché stabilita all'interno di quello che è propriamente individuale e di conseguenza meno fondamentale della precedente, è tuttavia ancora molto più profonda di quanto si potrebbe credere a prima vista. E molti errori o fraintesi della filosofia occidentale, particolarmente sotto la sua forma psicologica, provengono dal fatto che malgrado le apparenze, e se in fondo ignora questa distinzione, non meno di quanto ignori quella tra l'intelletto e il mentale, o che almeno ne misconosce la portata reale. Nota. Impieghiamo questa espressione a proposito perché alcuni, invece di dare alla psicologia solo il suo posto legittimo di scienza specializzata, pretendono di farne il punto di partenza e il fondamento di tutta una pseudometafisica che, ben inteso, è senza alcun valore. Inoltre, la distinzione, e potremmo anche dire la separazione di questa facoltà, mostra che c'è una vera molteplicità di stati, o più precisamente di modalità, nello stesso individuo, benché quest'ultimo nel suo insieme costituisca un solo stato dell'essere totale. L'analogia della parte del tutto si ritrova qui come altrove. Si può dunque parlare di una gerarchia di facoltà individuali, così come di una gerarchia degli stati dell'essere totale. Soltanto le facoltà dell'individuo, se sono indefinite nella loro estensione possibile, sono in numero definito e il semplice fatto di suddividerle più o meno, con una dissociazione spinta più o meno lontano, non aggiunge loro evidentemente nessuna nuova potenzialità, mentre, come abbiamo già detto, gli stati dell'essere sono veramente una moltitudine indefinita, e questo per la loro stessa natura, che è, per gli stati manifestati, di corrispondere a tutti i gradi dell'esistenza universale. Si potrebbe dire che nell'ordine individuale la distinzione si opera solo per divisione, e che nell'ordine extra-individuale si opera al contrario per moltiplicazione. Qui, come in tutti i casi, l'analogia si applica dunque in senso inverso. Non abbiamo nessuna intenzione di entrare qui nello studio speciale e dettagliato delle differenti facoltà individuali e delle loro funzioni o attributi rispettivi. Questo studio avrebbe forzatamente un carattere piuttosto psicologico, perlomeno per quanto riguarda la teoria di queste facoltà, che basta d'altronde nominare perché i loro oggetti propri siano definiti abbastanza chiaramente, a condizione ovviamente di restare nelle generalità che sole ci importano attualmente. Poiché le analisi, più o meno sottili, non sono di competenza della metafisica e del resto sono tanto più vane quanto più sono sottili, noi le abbandoneremo molto volentieri ai filosofi che mostrano di compiacersene. Da un altro lato, la nostra attuale intenzione non è di trattare completamente la questione della costituzione dell'essere umano, che abbiamo già esposto in un'altra opera, cosa che ci dispensa di più ampi sviluppi su questi punti di importanza secondaria in rapporto al soggetto che ci occupa adesso. Insomma, se abbiamo deciso, a proposito, di dire qualche parola sulla gerarchia delle facoltà individuali, è solo perché permette di rendersi meglio conto di quello che possono essere gli stati multipli, dandone in qualche modo una sorta di immagine ridotta, compresa nei limiti della possibilità individuale umana. Questa immagine può essere esatta, secondo la sua misura, solo se si tiene conto delle riserve che abbiamo formulato in quello che concerne l'applicazione dell'analogia. D'altra parte, poiché sarà tanto migliore quanto meno sarà limitata, conviene farvi entrare, unitamente alla nozione generale della gerarchia delle facoltà, la considerazione dei diversi prolungamenti dell'individualità di cui abbiamo avuto occasione di parlare precedentemente. D'altronde, questi prolungamenti che sono di ordini differenti possono rientrare ugualmente nelle suddivisioni della gerarchia generale. Ce ne sono anche che, essendo in qualche modo di natura organica, come abbiamo detto, si ricollegano semplicemente all'ordine corporale, ma a condizione di vedere in quest'ordine qualcosa di psichico, essendo questa manifestazione corporale come avvolta e penetrata insieme dalla manifestazione sottile in cui ha il suo principio immediato. Non si deve, a dir la verità, separare l'ordine corporale da altri ordini individuali, vale a dire da altre modalità appartenenti allo stesso stato individuale considerato nell'integralità della sua estensione. Più di quanto profondamente non debbano essere separati tra loro, poiché l'ordine corporeo si situa con loro ad uno stesso livello nell'insieme dell'esistenza universale e, di conseguenza, nella totalità degli stati dell'essere. Ma mentre le altre distinzioni sono state trascurate e dimenticate, questa ha assunto un'importanza esagerata in ragione del dualismo spirito-materia, la cui concezione ha prevalso per cause diverse nelle tendenze filosofiche di tutto l'Occidente moderno. Decimo, i confini dell'indefinito. Benché abbiamo parlato di una gerarchia delle facoltà individuali, non si deve mai perdere di vista che sono tutte comprese nell'estensione di un solo e medesimo stato dell'essere totale, vale a dire in un piano orizzontale della rappresentazione geometrica dell'essere, come l'abbiamo esposta nel nostro studio precedente, mentre la gerarchia dei diversi stati è segnata dalla loro sovrapposizione secondo la direzione dell'asse verticale della stessa rappresentazione. La prima di queste due gerarchie non occupa dunque, propriamente parlando, nessun posto nella seconda, poiché il suo insieme vi si riduce a un solo punto, il punto d'incontro dell'asse verticale col piano corrispondente allo stato considerato. In altri termini, la differenza delle modalità individuali, riferendosi solo al senso dell'ampiezza, è rigorosamente nulla secondo quello dell'esaltazione. Non si deve dimenticare d'altra parte che l'ampiezza nello sviluppo integrale dell'essere è indefinita altrettanto che l'esaltazione e proprio questo ci permette di parlare dell'indefinità delle possibilità di ogni stato, ma ben inteso senza che questa indefinità debba essere affatto interpretata come supponente un'assenza di limiti. Ci siamo già spiegati a sufficienza su questo punto, stabilendo la distinzione dell'infinito e dell'indefinito, ma possiamo fare intervenire qui una figura geometrica di cui non abbiamo ancora parlato. In un piano orizzontale qualunque, i confini dell'indefinito sono segnati dal cerchio limite, a cui certi matematici hanno dato la denominazione d'altronde assurda di retta dell'infinito. Nota. Questa denominazione viene dal fatto che un cerchio, il cui raggio cresce indefinitamente, ha per limite una retta e, in geometria analitica, l'equazione del cerchio limite di cui si tratta e che è il luogo di tutti i punti del piano indefinitamente allontanato dal centro, origine delle coordinate, si riduce effettivamente a un'equazione di primo grado, come quella di una retta. Riprendiamo, quindi. I confini dell'indefinito sono segnati dal cerchio limite a cui certi matematici hanno dato la denominazione d'altronde assurda di retta all'infinito e questo cerchio non è chiuso in nessuno dei suoi punti, essendo un grande cerchio, sezione prodotta da un piano diametrale, dello sferoide indefinito e il cui sviluppo comprende l'integralità dell'estensione, rappresentante la totalità dell'essere. Se ora consideriamo nel loro piano le modificazioni individuali come parti di un ciclo qualunque esterno al centro, vale a dire senza identificazione col centro secondo il raggio centripeto e propagandosi indefinitamente in modo vibratorio, il loro incontro col cerchio limite, seguendo il raggio centrifugo, corrisponde al loro punto massimo di dispersione, ma nello stesso tempo è necessariamente il punto d'arresto del loro movimento centrifugo. Tale moto, indefinito in ogni senso, rappresenta la molteplicità dei punti di vista parziali al di fuori dell'unità del punto di vista centrale, dal quale tuttavia derivano tutti, come i raggi emanati dal centro comune, e che costituisce così la loro unità essenziale e fondamentale, ma non effettivamente realizzata in rapporto alla loro via di esteriorizzazione graduale, contingente e multiforme, nell'indefinità della manifestazione. Parliamo qui di esteriorizzazione ponendoci dal punto di vista della manifestazione stessa. Ma non si deve dimenticare che ogni esteriorizzazione è come tale essenzialmente illusoria, perché, come abbiamo detto prima, la molteplicità che è contenuta nell'unità senza che questa ne sia toccata non può mai uscirne realmente, cosa che implicherebbe una alterazione, nel senso etimologico, in contraddizione con l'immutabilità principale. I punti di vista parziale, in moltitudine indefinita, che sono tutte le modalità di un essere in ciascuno degli stati, sono dunque insomma solo aspetti frammentari del punto di vista centrale. Frammentazione d'altronde tutta illusoria anche, essendo il centro essenzialmente indivisibile in realtà, per il fatto stesso che l'unità è senza parti. E la loro reintegrazione nell'unità di questo punto di vista centrale e principale è propriamente solo una integrazione in senso matematico di questo termine. Non significa che gli elementi abbiano potuto, in un momento qualunque, essere veramente staccati dalla loro somma o essere considerati tali, se non per una semplice astrazione. È vero che questa astrazione non è sempre effettuata coscientemente, perché è una conseguenza necessaria della restrizione delle facoltà individuali sotto tale o tal'altra delle loro modalità speciali, l'unica attualmente realizzata dall'essere che assume l'uno o l'altro di questi punti di vista parziale di cui si tratta qui. Queste poche osservazioni possono aiutare a far comprendere come occorre considerare i confini dell'indefinito e come la loro realizzazione è un fattore importante dell'unificazione effettiva dell'essere. Nota. Questo deve essere ricondotto a quello che abbiamo detto altrove, che è nella pienezza dell'espansione che si ottiene la perfetta omogeneità, così come inversamente l'estrema distinzione è realizzabile solo nell'estrema universalità. Conviene d'altronde riconoscere che la loro concezione, anche semplicemente teorica, non è priva di qualche difficoltà e deve normalmente essere così perché l'indefinito è precisamente ciò i cui limiti arretrano fino a che non li perdiamo di vista, vale dire che sfuggono alla presa delle nostre facoltà, almeno nel loro esercizio ordinario. Ma poiché queste stesse facoltà sono suscettibili di un'estensione indefinita, non è in virtù della loro stessa natura che l'indefinito le oltrepassa, ma solo in virtù di una limitazione di fatto dovuto al grado di sviluppo presente nella maggior parte degli esseri umani, di modo che tale concezione non è affatto impossibile e d'altronde non ci fa uscire dall'ordine delle possibilità individuali. Comunque sia, per apportare maggior precisione a questo riguardo, occorrerebbe considerare più particolarmente, a titolo d'esempio, le condizioni speciali di un certo stato di esistenza o, per parlare più rigorosamente, di una certa modalità definita, come quella che costituisce l'esistenza corporea, ciò che non possiamo fare nei limiti della presente esposizione. Su questa questione ancora ritorneremo dunque, come abbiamo già dovuto fare a diverse riprese, allo studio che ci proponiamo di consacrare interamente a questo soggetto delle condizioni dell'esistenza corporale. Undicesimo. Principi di distinzione tra gli stati dell'essere. Fin qui, in quello che concerne più specialmente l'essere umano, abbiamo considerato soprattutto l'estensione della possibilità individuale, che sola costituisce d'altronde lo stato propriamente umano. Ma l'essere che possiede questo stato possiede anche, almeno virtualmente, tutti gli altri stati senza i quali non potrebbe nemmeno esserci l'essere totale. Se consideriamo tutti questi stati nei loro rapporti con lo stato individuale umano, li possiamo classificare in pre-umani e post-umani, ma senza che l'impiego di questi termini debba suggerire l'idea di una successione temporale. Può esserci qui una questione di prima e dopo, solo in modo tutto simbolico. E si tratta solo di un ordine conseguenziale puramente logico, o piuttosto allo stesso tempo logico e ontologico, nei diversi cicli di sviluppo dell'essere. Poiché, metafisicamente, vale a dire dal punto di vista principale, tutti i cicli sono essenzialmente simultanei e possono divenire successivi solo accidentalmente in qualche modo e in virtù di certe condizioni speciali di manifestazione. Nota. Questo simbolismo temporale è d'altronde di un impiego costante nella teoria dei cicli, che questa sia applicata all'insieme degli esseri o a ciascuno di essi in particolare. I cicli cosmici non sono altro che gli stati o gradi dell'esistenza universale, o le loro modalità secondarie quando si tratta di cicli subordinati e più ristretti, che presentano d'altronde delle fasi corrispondenti a quelle dei cicli più estesi nei quali si integrano, in virtù di questa analogia della parte del tutto di cui abbiamo già parlato. Insistiamo una volta di più su questo punto, che la condizione temporale, per quanto se ne possa supporre generalizzato il concetto, è applicabile solo a certi cicli o a certi stati particolari, come lo stato umano, o anche a certe modalità di certi stati, come la modalità corporale. Alcuni dei prolungamenti dell'individualità umana possono sfuggire al tempo senza uscire per questo dall'ordine delle possibilità individuali, e non può intervenire a nessun titolo nella totalizzazione dell'essere. Nota. Questo è vero non solo del tempo, ma anche della durata considerata, secondo certi concetti, comprendente, oltre il tempo, tutti gli altri modi possibili di successione, vale a dire tutte le condizioni che, in altri stati di esistenza, possono corrispondere analogicamente a quello che è il tempo nello stato umano. È esattamente la stessa cosa per la condizione spaziale, o per qualsiasi altra delle condizioni a cui siamo attualmente sottomessi in quanto esseri individuali, come anche per quelle a cui sono parimenti sottomessi tutti gli altri stati di manifestazione, compresi nell'integralità dell'ambito dell'esistenza universale. È certamente legittimo stabilire, come abbiamo indicato, una distinzione nell'insieme degli stati dell'essere, riferendoli allo stato umano, chiamandoli logicamente anteriori o posteriori, o ancora superiori o inferiori a detto stato, e abbiamo dato fin dall'inizio le ragioni che giustificano una tale distinzione, ma a dire il vero non è che è un punto di vista molto particolare, e il fatto che sia attualmente il nostro non ci deve far illudere al riguardo. Perciò, in tutti i casi in cui non è indispensabile porsi in questo punto di vista, sarà meglio ricorrere ad un principio di distinzione che sia di un ordine più generale e che presenti un carattere più fondamentale, senza dimenticare mai d'altronde che ogni distinzione è forzatamente qualcosa di contingente. La distinzione più principale di tutte, se si può dire così, è quella che è suscettibile dell'applicazione più universale. È quella degli stati di manifestazione e degli stati di non manifestazione che abbiamo effettivamente posto prima di tutte le altre, dall'inizio del presente studio, perché è di un'importanza capitale per tutto l'insieme della teoria degli stati multipli. Tuttavia, a volte può accadere di considerare un'altra distinzione di una portata più limitata, come quella che potremmo stabilire, per esempio, riferendoci non più alla manifestazione universale nella sua integralità, ma semplicemente a una qualunque delle condizioni generali o speciali di esistenza che ci sono note. Divideremo allora gli stati dell'essere in due categorie, a seconda che siano meno sottomessi alla condizione di cui si tratta, e in tutti i casi gli stati di non manifestazione, essendo incondizionati, rientreranno necessariamente nella seconda di queste categorie, quella la cui determinazione è puramente negativa. Qui avremo dunque, da una parte, gli stati che sono compresi all'interno di un certo ambito determinato, d'altronde più o meno esteso, e dall'altra parte tutto il resto, vale a dire tutti gli stati che sono al di fuori di questo stesso ambito. C'è di conseguenza una certa asimmetria e come una sproporzione tra queste due categorie, di cui la prima soltanto è delimitata in realtà, qualsiasi sia l'elemento che serve a determinarla. Per avere di questo una rappresentazione geometrica, si può, data una curva chiusa qualunque tracciata in un piano, considerare questa curva come dividente il piano in due regioni, una situata all'interno della curva che la avvolge e la delimita, e l'altra estendente sia tutto quello che è all'esterno della stessa curva. La prima delle due regioni è definita, mentre la seconda è indefinita. Le stesse considerazioni si applicano a una superficie chiusa che si estende nelle tre dimensioni, che abbiamo preso per simboleggiare la totalità dell'essere. Ma importa sottolineare che anche in questo caso una delle regioni è strettamente definita, quantunque comprenda d'altronde un'infinità di punti, dal momento che la superficie è chiusa, mentre nella divisione degli stati dell'essere la categoria che è suscettibile di una determinazione positiva, dunque di una delimitazione effettiva, comportano di meno, per quanto limitata la si possa supporre, delle possibilità di sviluppo indefinite. Per ovviare a questa imperfezione della rappresentazione geometrica, basta levare la restrizione che ci siamo imposti considerando una superficie chiusa, che esclude una superficie non chiusa. Andando fino ai confini dell'indefinito, in effetti, una linea o una superficie qualunque sia, è sempre riducibile a una curva o a una superficie chiusa. Nota, è così per esempio che la retta è riducibile a una circonferenza e il piano a una sfera, come i limiti dell'una e dell'altra quando i loro raggi sono supposti crescere indefinitamente. Quindi una linea o una superficie qualunque sia è sempre riducibile a una curva o a una superficie chiusa, di modo che si può dire che divide il piano in due regioni, che possono essere allora, l'una e l'altra, indefinite in estensione e di cui tuttavia una sola, come in precedenza, è condizionata da una determinazione positiva, risultante dalla curva o dalla superficie considerata. Nel caso in cui si stabilisce una distinzione, ponendo l'insieme degli stati in relazione a uno qualunque tra loro, che sia lo stato umano o un altro, il principio determinante è di un ordine differente di quello che abbiamo indicato, perché non può riportarsi puramente e semplicemente all'affermazione e alla negazione di una certa condizione. Nota. È d'altronde ben inteso che dal punto di vista della realtà assoluta la negazione di una condizione, vale a dire di una determinazione o di una limitazione, ha un carattere di positività, come abbiamo già spiegato a proposito dell'impiego dei termini di forma negativa. Geometricamente occorre allora considerare l'estensione come divisa in due dal piano che rappresenta lo stato preso per base o per termine di paragone. Quello che è situato da una parte e dall'altra di questo piano corrisponde rispettivamente a due categorie che si è portati a considerare e che presentano una specie di simmetria o di equivalenza che non avevano nel caso precedente. Questa distinzione, quella che abbiamo esposto altrove sotto la sua forma più generale, a proposito della teoria hindu dei tre guna. Il piano che serve da base è indeterminato in principio e può rappresentare uno stato condizionato qualunque, di modo che solo secondariamente lo si determina come rappresentante lo stato umano, quando si vuole porsi al punto di vista di questo stato speciale. D'altra parte può essere utile, particolarmente per facilitare le applicazioni corrette dell'analogia, estendere questa ultima rappresentazione a tutti i casi, anche a quelli a cui non sembra convenire direttamente secondo le considerazioni precedenti. Per ottenere questo risultato si deve evidentemente solo raffigurare come un piano di base quello per cui si determina la distinzione che si stabilisce, qualunque ne sia il principio. La parte dell'estensione che è situata al di sotto di questo piano potrà rappresentare quello che è sottomesso alla determinazione considerata e quella che è situata al di sopra rappresenterà allora quello che non è sottomesso a questa stessa determinazione. Il solo inconveniente di questa rappresentazione è che le due regioni dell'estensione sembrano essere ugualmente indefinite e allo stesso modo, ma si può distruggere questa simmetria guardando il loro piano di separazione come il limite di una sfera il cui centro è indefinitamente lontano seguendo la direzione discendente, cosa che ci riporta in realtà al primo modo di rappresentazione, perché quello è solo un caso particolare di questa riduzione a una superficie chiusa. Insomma basta pensare che l'apparenza di simmetria in un caso simile è dovuta solo ad una certa imperfezione del simbolo impiegato e d'altronde si può sempre passare da una rappresentazione ad un'altra quando vi si trovi una comodità maggiore o un qualche vantaggio di un altro ordine, poiché in ragione stessa di questa imperfezione inevitabile per la natura delle cose, come abbiamo spesso fatto notare, una sola rappresentazione generalmente insufficiente per rendere integralmente o almeno senza altra riserva che quella dell'inesprimibile un concetto dell'ordine di quello di cui qui si tratta. Benché in un modo o in un altro si dividano gli stati dell'essere in due categorie, va da sé che non c'è alcuna traccia di un dualismo qualunque, perché questa divisione si viene per mezzo di un principio unico, come una certa condizione d'esistenza, e c'è così in realtà una sola determinazione, che è considerata allo stesso tempo positivamente e negativamente. D'altronde, per rigettare ogni sospetto di dualismo, per quanto è giustificato, basta far osservare che tutte queste distinzioni, ben lungi dall'essere irriducibili, esistono solo dal punto di vista tutto relativo da cui sono stabilite, e che anzi acquisiscono questa esistenza contingente, la sola di cui sono suscettibili, nella misura in cui siamo noi stessi a darla loro attraverso la nostra concezione. Il punto di vista della manifestazione tutta intera, benché evidentemente più universale degli altri, è ancora tutto relativo come gli altri, poiché la manifestazione stessa è puramente contingente. Questo si applica dunque anche alla distinzione che abbiamo considerato come la più fondamentale e la più vicina all'ordine principale, quella tra gli stati di manifestazione e gli stati di non manifestazione, come abbiamo d'altronde avuto cura di indicare, parlando dell'essere e del non essere. Dodicesimo, i due caos. Tra le distinzioni che, secondo quello che abbiamo esposto nel capitolo precedente, si basano sulla considerazione di una condizione di esistenza, una delle più importanti e potremmo indubbiamente dire la più importante di tutte, è quella tra gli stati formali e gli stati informali, perché è la stessa cosa, metafisicamente, è solo uno degli aspetti della distinzione dell'individuale e dell'universale, quest'ultimo considerato come comprendente allo stesso tempo la non manifestazione e la manifestazione informale, come abbiamo già spiegato altrove. In effetti la forma è una condizione particolare di certi modi della manifestazione ed è a questo titolo che è, nello specifico, una delle condizioni dell'esistenza nello stato umano, ma nello stesso tempo essa è propriamente, in un senso generale, il modo di limitazione che caratterizza l'esistenza individuale, che può servirle in qualche modo da definizione. Deve essere ben inteso d'altronde che questa forma non è necessariamente determinata come spaziale e temporale, come lo è nel caso speciale della modalità umana corporale, essa non può affatto esserlo negli stati non umani che non sono sottomessi allo spazio e al tempo, ma a tutte le altre condizioni. Nota. La forma, geometricamente parlando, è il contorno e l'apparenza del limite, dice Machuat, la Voix Metaphysique. Si potrebbe definirla come un insieme di tendenze in direzione, per analogia con l'equazione tangenziale di una curva. Va da sé che questo concetto, a base geometrica, è trasportabile nell'ordine qualitativo. Segnaliamo anche che si può far intervenire queste considerazioni in quello che concerne gli elementi non individualizzati, ma non sopraindividuali, del mondo intermedio a cui la tradizione dell'Estremo Oriente dà la denominazione generica di influenze erranti e la loro possibilità di individualizzazione temporanea e fuggevole, in determinazione di direzione, attraverso il loro entrare in relazione con una coscienza umana. Perciò la forma è una condizione comune non a tutti i modi della manifestazione, ma almeno a tutti i suoi modi individuali, che si differenziano tra di loro per la giunta di tale o dall'altra condizione più particolare. Ciò che costituisce la natura propria dell'individuo in quanto tale è il fatto di essere rivestito di una forma e tutto quello che è del suo ambito, come il pensiero individuale nell'uomo, è parimenti formale. Nota. È senza dubbio in questo modo che occorre intendere quello che dice Aristotele, che l'uomo, in quanto individuo, non pensa mai senza immagini, vale a dire senza forme. La distinzione che abbiamo ricordato è dunque in fondo quella tra gli stati individuali e gli stati non individuali o sopraindividuali, i primi comprendenti nel loro insieme tutte le possibilità formali e i secondi tutte le possibilità informali. L'insieme delle possibilità formali e delle possibilità informali sono quelli che le diverse dottrine tradizionali simboleggiano rispettivamente con acque inferiori e acque superiori. Nota. La separazione delle acque dal punto di vista cosmogonico si trova descritta all'inizio della Genesi. Le acque, in un modo generale e in un senso più esteso, rappresentano la possibilità intesa come la perfezione passiva o il principio plastico universale che nell'essere si determina come la sostanza, aspetto potenziale dell'essere. In quest'ultimo caso si tratta solo della totalità delle possibilità di manifestazione, essendo le possibilità di non manifestazione, al di là dell'essere. La superficie delle acque o il loro piano di separazione che abbiamo descritto altrove come il piano di riflessione del raggio celeste, nota. Nel simbolismo della croce. È questo, nel simbolismo hindù, il piano secondo il quale Brahmanda, o uovo del mondo, al centro del quale risiede Iraniagarba, si divide in due metà. Questo uovo del mondo è d'altronde spesso rappresentato come navigante sulla superficie delle acque primordiali. Riprendiamo. La superficie delle acque o il loro piano di separazione, che abbiamo descritto altrove come il piano di riflessione del raggio celeste, marca dunque lo stato nel quale si opera il passaggio dall'individuale all'universale, e il simbolo ben noto del camminare sulle acque raffigura la liberazione dalla forma o la liberazione dalla condizione individuale, nota. Narayana, che è uno dei nomi di Vishnu nella tradizione hindù, significa letteralmente colui che cammina sulle acque. C'è un'affinità con la tradizione evangelica che si impone da sé. Naturalmente, là come altrove, il significato simbolico non intacca il carattere storico che il fatto considerato ha nel secondo caso, fatto che del resto è tantomeno contestabile in quanto la sua realizzazione, corrispondente all'ottenimento di un certo grado di iniziazione effettiva, è molto meno rara di quanto lo si supponga ordinariamente. L'essere che è arrivato allo stato corrispondente per lui alla superficie delle acque, ma senza elevarsi ancora al di sopra di esso, si trova come sospeso tra due caos, nei quali all'inizio tutto al principio è solo confusione e oscurità, tamas, fino al momento in cui si produce l'illuminazione che ne determina l'organizzazione armonica nel passaggio dalla potenzialità all'atto e per la quale si opera come il fiat lux cosmogonico, la gerarchizzazione che farà uscire l'ordine dal caos. Questa considerazione di due caos, corrispondenti al formale e all'informale, è indispensabile per la comprensione di molte raffigurazioni simboliche e tradizionali. Nota, vedi specialmente il simbolismo dell'ostremo oriente del drago, corrispondente al concetto teologico occidentale del verbo come il luogo dei possibili. Riprendiamo, questa considerazione di due caos, corrispondenti al formale e all'informale, è indispensabile per la comprensione di molte raffigurazioni simboliche tradizionali. È per questo che abbiamo tenuto a menzionarla specialmente qui. Del resto, benché abbiamo già trattato questa questione nel nostro studio precedente, essa si ricollegava troppo direttamente al nostro soggetto presente perché non ci fosse possibile ricordarla, anche se brevemente. Tredicesimo. Le gerarchie spirituali. Solo la gerarchizzazione degli stati multipli nella realizzazione effettiva dell'essere totale permette di comprendere come si deve considerare, dal punto di vista della metafisica pura, quello che chiamano abbastanza genericamente le gerarchie spirituali. Sotto questo nome si intendono comunemente delle gerarchie di esseri differenti dall'uomo e differenti tra loro, come se ogni grado fosse occupato da esseri speciali, limitati rispettivamente agli stati corrispondenti. Ma la concezione degli stati multipli ci dispensa manifestamente dal porci da questo punto di vista, che può essere molto legittimo per la teologia o per altre scienze o speculazioni particolari, ma che non ha niente di metafisico. In fondo poco ci importa in se stessa l'esistenza degli esseri extra-umani e sopra-umani che possono certamente essere di una indefinità di generi, qualsiasi siano gli appellativi con cui li si designa. Se abbiamo ogni ragione di ammettere questa esistenza, non fosse altro perché vediamo anche degli esseri non umani nel mondo che ci circonda e quindi devono esserci di conseguenza negli altri stati degli esseri che non passano nella manifestazione umana? Se non altri, almeno quelli che sono rappresentati in questo mondo dalle individualità non umane? Non abbiamo però alcun motivo per occuparcene specialmente, non più di quanto ci occupiamo di esseri infra-umani che esistono ugualmente e che potremmo considerare allo stesso modo. Nessuno si sogna di fare di una classificazione dettagliata degli esseri non umani del mondo terrestre l'oggetto di uno studio metafisico sedicente tale. Non si vede perché dovrebbe essere altrimenti per il semplice fatto che si tratta di esseri esistenti in altri mondi, vale a dire occupanti altri stati, che per quanto superiori possano essere al nostro, non di meno fanno parte allo stesso titolo dell'ambito della manifestazione universale. Solamente è facile comprendere che i filosofi che hanno voluto limitare l'essere a un solo stato, considerando l'uomo nella sua individualità più o meno estesa, costituente un tutto completo in sé stesso, se sono tuttavia stati portati a pensare vagamente per una ragione qualunque che ci siano altri gradi nell'esistenza universale, hanno potuto però fare di questi gradi solo gli ambiti di esseri che ci sono totalmente strani, salvo in quello che possono avere in comune con tutti gli esseri. E nello stesso tempo la tendenza tropomorfica le ha spesso portati, d'altra parte, a esagerare la comunanza della natura, prestando a questi esseri delle facoltà non semplicemente analoghe, ma simili o addirittura identiche a quelle che appartengono all'uomo individuale. Nota. Se gli stati angelici sono gli stati sopraindividuali che costituiscono la manifestazione informale, non si può attribuire agli angeli nessuna delle facoltà che sono di ordine propriamente individuale, per esempio, come abbiamo detto in precedenza, non li si può supporre dotati di ragione, che è la caratteristica esclusiva dell'individualità umana. Essi possono avere solo un modo di intelligenza puramente intuitivo. In realtà gli stati di cui si parla sono incomparabilmente più differenti dallo stato umano di quanto nessun filosofo dell'Occidente moderno abbia mai potuto concepire neanche lontaneamente. Ma a malgrado questo, questi stessi stati, qualsiasi possano essere d'altronde gli esseri che li occupano attualmente, possono essere ugualmente realizzati da tutti gli altri esseri, ivi compresi da chi è nello stesso tempo un essere umano in un altro stato di manifestazione. Senza di che, come abbiamo già detto, non si potrebbe parlare della totalità di ogni essere, dovendo questa totalità, per essere effettiva, comprendere necessariamente tutti gli stati, tanto di manifestazione formale e informale che di non manifestazione, ognuno secondo il modo con cui l'essere considerato è capace di realizzarlo. Abbiamo notato altrove che quasi tutto quello che viene detto teologicamente degli angeli può essere detto metafisicamente degli stati superiori dell'essere. Così come nel simbolismo astrologico del Medioevo i cieli, vale a dire le differenti sfere planetari e stellari rappresentanti questi stessi stati e anche i gradi iniziatici a cui corrisponde la loro realizzazione, e come i cieli e gli inferi, i Deva e gli Asura nella tradizione hindù rappresentano rispettivamente gli stati superiori e inferiori in rapporto allo stato umano. Ben inteso, tutto questo non esclude nessuno dei modi di realizzazione che possono essere propri ad altri esseri, così come ce ne sono alcuni propri dell'essere umano, in quanto il suo stato individuale preso come punto di partenza e per base della realizzazione. Ma questi modi che ci sono estranei non ci importano più di quanto ci importino tutte le forme che non saremmo mai chiamati a realizzare, come le forme animali, vegetali e minerali del mondo corporale, perché sono realizzate anche da altri esseri nell'ordine della manifestazione universale, la cui indefinità esclude ogni ripetizione. Da quello che abbiamo detto risulta che per gerarchie spirituali possiamo intendere propriamente solo l'insieme degli stati dell'essere che sono superiori all'individualità umana, e più specialmente gli stati informali o sopraindividuali, stati che dobbiamo d'altronde considerare come realizzabili per l'essere a partire dallo stato umano e perfino nel corso della sua esistenza corporea e terrestre. In effetti questa realizzazione è essenzialmente implicata nella totalizzazione dell'essere, dunque nella liberazione, moksha o mukti, per cui l'essere è liberato dai legami di tutta la condizione speciale di esistenza e che non essendo suscettibile di gradi differenti è completa e perfetta quando è ottenuta sia come liberazione nella vita, jivan mukti, che come liberazione senza forma, videa mukti, come abbiamo già avuto occasione di esporre altrove. Perciò non può esserci nessun grado spirituale che sia superiore a quello di yogi, perché colui, essendo giunto a questa liberazione, che è nello stesso tempo l'unione, yoga o l'identità suprema, non ha più niente da ottenere ulteriormente, ma se lo scopo da raggiungere è lo stesso per tutti gli esseri, è ben inteso che ognuno lo raggiunge seguendo la sua via personale, dunque con delle sue modalità suscettibili di variazioni indefinite. Si comprende di conseguenza che ci siano in corso di questa realizzazione delle tappe multiple e diverse, che possono essere d'altronde percorse successivamente o simultaneamente, secondo il caso, e che, riferendosi ancora a degli stati determinati, non devono assolutamente essere confuse con la liberazione totale che ne è il fine o il risultato supremo. Ci sono tanti gradi quanti ne possiamo considerare nelle gerarchie spirituali, qualunque sia del resto la classificazione più o meno generale che si stabilirà, se è il caso, nell'indefinità delle loro modalità possibili, e che dipenderà naturalmente dal punto di vista a cui si intenderà apporsi più particolarmente. Nota. Queste gerarchie spirituali, poiché i diversi stati che comportano sono realizzati attraverso il conseguimento di altrettanti gradi iniziatici effettivi, corrispondono a quello che l'esoterismo islamico chiama le categorie dell'iniziazione. Segnaleremo specialmente su questo soggetto il trattato di Moedin ibn Arabi, che ha precisamente questo titolo. In ragione stessa dell'equivalenza di tutti gli stati di fronte all'assoluto, quando lo scopo finale viene raggiunto, nell'uno o l'altro dei gradi di cui si tratta, l'essere non ha assolutamente bisogno di averli percorsi tutti preliminarmente, e d'altronde li possiede tutti, da allora, per sopra più, per così dire, perché sono degli elementi integranti della sua totalizzazione. D'altra parte, l'essere che possiede così tutti gli stati potrà sempre evidentemente, nel caso, essere considerato più in particolare in rapporto a uno qualunque di questi stati, e come se vi si fosse situato effettivamente, quantunque sia in verità al di là di tutti gli stati e li contenga tutti in sé stesso, non potendo certo essere lui contenuto in nessuno di essi. Si potrebbe dire che in casi simili saranno semplicemente degli aspetti diversi che costituiranno in qualche modo altrettante funzioni di questo essere, senza che costui sia in qualcosa influenzato dalle loro condizioni, che non esistono più per lui se non in modo illusorio, poiché, in quanto è veramente sé, il suo stato è essenzialmente incondizionato. È così che l'apparenza formale, cioè corporale, può sussistere per l'essere che è liberato nella vita, Jivan Mukta, e che durante la sua residenza nel corpo non è toccato dalle sue proprietà, come il firmamento non è affetto da quello che è sospeso al suo interno. E resta lo stesso non toccato da tutte le altre contingenze, qualunque sia lo stato, individuale o sopraindividuale, vale a dire formale o informale, a cui si riferiscono nell'ordine della manifestazione, che in fondo è esso stesso la somma di tutte le contingenze. Quattordicesimo. Risposta alle obiezioni basate sulla pluralità degli esseri. In quello che precede c'è un punto che potrebbe prestarsi ad un'obiezione, benché a dire il vero vi abbiamo già risposto in parte, almeno implicitamente, per quello che abbiamo esposto a proposito delle gerarchie spirituali. Questa obiezione è la seguente. Avendo detto che esiste un'indefinità di modalità che sono realizzate da esseri differenti, è veramente legittimo parlare di totalità per ogni essere? Si può rispondere a questo, prima facendo notare che l'obiezione così posta si applica evidentemente solo agli stati manifestati, poiché nel non manifestato non si potrebbe parlare di nessuna specie di distinzione reale, di modo che, dal punto di vista di questi stati di non manifestazione, quello che appartiene a un essere appartiene parimenti a tutti, nella misura in cui hanno effettivamente realizzato questi stati. Ora, se si considera da questo stesso punto di vista tutto l'insieme della manifestazione, essa costituisce, in ragione della sua contingenza, solo un semplice accidente, nel senso proprio della parola, e di conseguenza l'importanza di tale o tal'altra delle sue modalità, considerata in sé e distintamente, è allora rigorosamente nulla. Inoltre, poiché il non manifestato contiene in principio tutto quello che costituisce la realtà profonda ed essenziale delle cose che esistono sotto un modo qualunque di manifestazione, altrimenti il manifestato avrebbe solo un'esistenza puramente illusoria, si può dire che l'essere che è giunto effettivamente allo stato di non manifestazione possiede per questo tutto il resto e che lo possiede veramente in sopra più, nello stesso modo con cui, come abbiamo detto nel capitolo precedente, possiede tutti gli stati o gradi intermedi, anche senza averli percorsi preliminarmente e distintamente. Questa risposta in cui consideriamo solo l'essere che è giunto alla realizzazione totale è pienamente sufficiente dal punto di vista puramente metafisico ed è anche la sola che possa essere veramente sufficiente, perché se non considerassimo l'essere in questo modo, se esaminassimo qualsiasi altro caso diverso da questo, non sarebbe più possibile parlare di totalità, di modo che l'obiezione stessa non si potrebbe più applicare. Quello che occorre dire, insomma, come pure quando si tratta di obiezioni che possono essere poste riguardo all'esistenza della molteplicità, è che il manifestato, considerato come tale, vale a dire sotto l'aspetto della distinzione che lo condiziona, non è nulla riguardo al non manifestato, perché non può esserci nessuna misura comune tra l'uno e l'altro. Ciò che è assolutamente reale, essendo tutto il resto solo illusorio, nel senso di una realtà che è solo derivata e come partecipata, è, anche per le possibilità che comportano la manifestazione, lo stato permanente incondizionato sotto il quale esse appartengono, principalmente e fondamentalmente, all'ordine della non manifestazione. Tuttavia, benché questo sia sufficiente, tratteremo ancora adesso un altro aspetto della questione, nella quale considereremo l'essere come avente realizzato non più la totalità del sé incondizionato, ma solo l'integralità di un certo stato. In questo caso, l'obiezione precedente deve prendere una nuova forma. Com'è possibile considerare l'integralità per un solo essere quando lo stato di cui si tratta costituisce un ambito che gli è comune con un'indefinità di altri esseri, in quanto questi sono ugualmente sottomessi alle condizioni che caratterizzano e determinano questo stato o questo modo di esistenza? Non è più la stessa obiezione, ma solo un'obiezione analoga fatte le debite proporzioni tra i due casi, e la risposta deve essere anche analoga. Per l'essere che è giunto a porsi effettivamente e dal punto di vista centrale dello stato considerato che è il solo modo possibile di realizzarne l'integralità, tutti gli altri punti di vista più o meno particolari perdono la loro importanza finché sono presi distintamente, poiché egli li ha tutti unificati in questo punto di vista centrale. È dunque nell'unità di quest'ultimo che esistono per lui e non al di fuori di questa unità, poiché l'esistenza della molteplicità fuori dell'unità è puramente illusoria. L'essere che ha realizzato l'integralità di uno stato si è fatto lui stesso il centro di questo stato e come tale si può dire che riempie questo stato tutto e intero della sua propria irradiazione, assimila a sé tutto quello che vi è contenuto, in modo tale da farne in un certo senso come altrettante modalità secondarie di lui stesso, pressa poco paragonabili a quelle che sono le modalità che si realizzano nello stato di sogno, secondo quello che è stato detto prima. Nota. Il simbolo del nutrimento, Anna, è spesso impiegato nell'Eupanishad per disegnare una tale assimilazione. Di conseguenza, questo essere non è affatto toccato nella sua estensione dall'esistenza che queste modalità o almeno alcune tra esse possono avere al di fuori di lui. Questa espressione di fuori non ha del resto più senso dal suo proprio punto di vista, ma solo dal punto di vista degli altri esseri rimasti nella molteplicità non unificata. Quindi riprendiamo. Di conseguenza, questo essere non è affatto toccato nella sua estensione dall'esistenza che queste modalità o almeno alcune tra esse possono avere al di fuori di lui in ragione dell'esistenza simultanea di altri esseri nello stesso stato. E d'altra parte, l'esistenza di queste stesse modalità non intacca in niente la sua unità, anche nel caso in cui si tratti solo dell'unità ancora relativa che è realizzata al centro di uno stato particolare. Tutto questo stato è costituito solo dall'irradiazione dal suo centro e ogni essere che si pone effettivamente in questo centro diventa ugualmente, per questo fatto stesso, padrone dell'integralità di questo stato. È così che l'indifferenziazione principale del non manifestato si riflette nel manifestato e deve essere ben inteso d'altronde che questo riflesso, essendo nel manifestato, conserva per sempre, per questa ragione, la relatività che è inerente ad ogni esistenza condizionata. Stabilito questo, si comprenderà facilmente che delle considerazioni analoghe possono applicarsi alle modalità comprese a titoli diversi in un'unità ancora più relativa, come quella di un essere che ha realizzato un certo stato solo parzialmente e non integralmente. Un tale essere, come l'individuo umano, per esempio, senza essere ancora giunto al suo intero sviluppo nel senso dell'ampiezza, corrispondente al grado di esistenza nel quale è situato, ha tuttavia assimilato a sé in una misura più o meno completa tutto quello di cui ha veramente preso coscienza nei limiti della sua estensione attuale e le modalità accessorie che ha così assimilato a sé e che sono evidentemente suscettibili di accrescersi costantemente e indefinitamente, costituiscono una parte molto importante di questi prolungamenti dell'individualità, a cui abbiamo fatto allusione a varie riprese. Quindicesimo, la realizzazione dell'essere attraverso la conoscenza. Abbiamo detto che l'essere assimila a sé più o meno completamente tutto quello di cui prende coscienza. In effetti non c'è vera conoscenza in qualsiasi ambito se non quella che ci permette di penetrare più o meno profondamente nella natura intima delle cose e i gradi della conoscenza possono consistere precisamente in una penetrazione più o meno profonda che porti ad un'assimilazione più o meno completa. In altri termini non c'è conoscenza vera se non implica un'identificazione del soggetto con l'oggetto o, se si preferisce considerare il rapporto in senso inverso, un'assimilazione dell'oggetto da parte del soggetto e nella misura precisa in cui implica effettivamente una tale identificazione o una tale assimilazione di cui i gradi di realizzazione costituiscono di conseguenza i gradi della conoscenza stessa. Nota. Deve essere ben inteso che prendiamo qui i termini di soggetto e oggetto nel loro senso più abituale per disegnare rispettivamente colui che conosce e ciò che è conosciuto. Abbiamo già segnalato in diverse occasioni che Aristotele aveva posto in principio l'identificazione attraverso la conoscenza, ma che questa affermazione in lui e nei suoi continuatori scolastici sembrava essere restata puramente teorica senza che ne fosse mai stata tratta nessuna conseguenza in ciò che concerne la realizzazione metafisica. Dobbiamo dunque affermare, a dispetto di tutte le discussioni filosofiche ed altronde più o meno oziose che questo punto ha potuto suscitare, che ogni conoscenza vera ed effettiva è immediata e che una conoscenza mediata non può avere che un valore puramente simbolico e rappresentativo. Nota. Alludiamo qui alle moderne teorie della conoscenza sulla cui vanità ci siamo già spiegati altrove. Questa differenza di cui parliamo è quella della conoscenza intuitiva e della conoscenza discorsiva di cui abbiamo già spesso parlato per cui non ci ritorneremo ancora. Quanto alla possibilità stessa della conoscenza immediata la teoria tutta intera degli stati multipli la rende sufficientemente comprensibile d'altronde volerla mettere in dubbio e dar prova di una perfetta ignoranza riguardo ai principi metafisici più elementari poiché senza questa conoscenza immediata la metafisica stessa sarebbe totalmente impossibile. Abbiamo parlato di identificazione o di assimilazione e possiamo impiegare qui questi due termini pressa poco indifferentemente benché non si rapportino esattamente allo stesso punto di vista. Allo stesso modo si può considerare la conoscenza come procedente allo stesso tempo dal soggetto all'oggetto di cui prende coscienza o più generalmente per non limitarci alle condizioni di certi stati di cui fa una modalità secondaria di lui stesso e dall'oggetto al soggetto che l'assimila a sé e ricorderemo a questo proposito la definizione aristotelica della conoscenza nell'ambito sensibile come l'atto comune del senziente e del sentito che implica effettivamente una tale reciprocità di relazione. Nota si può rimarcare anche che l'atto comune a due esseri secondo il senso che dà Aristotele alla parola atto è quello per cui le loro nature coincidono dunque si identificano almeno parzialmente. perciò in quello che concerne questo ambito sensibile o corporale gli organi dei sensi sono per l'essere individuale le entrate della conoscenza nota. Il simbolismo delle bocche di Vaish Vanara si rapporta all'analogia dell'assimilazione cognitiva con l'assimilazione nutritiva. Ma da un altro punto di vista sono anche delle uscite precisamente per il fatto che ogni conoscenza implica un atto di identificazione che parte dal soggetto conoscitore va verso l'oggetto conosciuto o piuttosto da conoscere che è per l'essere individuale come l'emissione di una sorta di prolungamento esterno di lui stesso. Importa rimarcare d'altronde che un tale prolungamento esterno sono in rapporto all'individualità considerata nella sua nozione più limitata poiché fa parte integrante dell'individualità estesa. L'essere estendendosi così attraverso uno sviluppo delle sue proprie possibilità non deve affatto uscire da lui stesso cosa che in realtà non avrebbe neanche alcun senso perché un essere non può in nessuna condizione divenire diverso da se stesso. Questo risponde direttamente nello stesso tempo alla principale obiezione dei filosofi occidentali moderni contro la possibilità della conoscenza immediata. Si vede nettamente da questo che quello che ha fatto nascere questa obiezione non è altro che un'incomprensione metafisica pure semplice in ragione della quale questi filosofi hanno misconosciuto le possibilità dell'essere anche individuale nella sua estensione indefinita. Tutto questo è vero a maggior ragione se uscendo dai limiti dell'individualità l'applichiamo agli esseri superiori. La vera conoscenza di questi stati implica il loro possesso effettivo e inversamente è grazie a questa conoscenza stessa che l'essere ne prende possesso perché questi due atti sono inseparabili l'uno dall'altro e potremmo dire che in fondo sono uno solo. Naturalmente ciò si deve intendere solo per la conoscenza immediata che quando si estende alla totalità degli stati comporta in essa stessa la loro realizzazione e che è di conseguenza il solo mezzo di ottenere la liberazione completa e finale. Quanto alla conoscenza che è rimasta puramente teorica è evidente che non può equivalere in nulla a una tale realizzazione e non essendo una percezione immediata del suo oggetto non può avere come abbiamo già detto che è un valore tutto simbolico non di meno costituisce una preparazione indispensabile all'acquisizione di questa conoscenza effettiva attraverso la quale e attraverso solo di essa si opera la realizzazione dell'essere totale. Dobbiamo insistere in particolare ogni volta che ci se ne presenta l'occasione su questa realizzazione dell'essere attraverso la conoscenza perché questo concetto è totalmente straneo ai concetti occidentali moderni che non vanno al di là della conoscenza teorica o più esattamente di una debole parte di essa e che oppongono artificialmente il conoscere all'essere come se non fossero le due facce inseparabili di una sola e stessa realtà. Non può esserci vera metafisica per chi non comprenda veramente che l'essere si realizza attraverso la conoscenza e che può realizzarsi solo in questo modo. La dottrina metafisica pura non deve preoccuparsi minimamente di tutte le teorie della conoscenza che elabora così faticosamente la filosofia moderna. Si può perfino vedere in questi tentativi di sostituzione di una teoria della conoscenza alla conoscenza stessa una vera missione di impotenza anche se certamente inconsapevole da parte di questa filosofia così completamente ignorante di ogni possibilità di realizzazione effettiva. Inoltre la conoscenza vera essendo immediata come abbiamo già detto può essere più o meno completa più o meno profonda più o meno adeguata ma non può essere essenzialmente relativa come vorrebbe questa stessa filosofia o almeno lo è solo nella misura in cui sono relativi i suoi stessi oggetti. In altri termini la conoscenza relativa metafisicamente parlando non è altro che la conoscenza del relativo o del contingente vale a dire quella che si applica al manifestato ma il valore di questa conoscenza all'interno del suo proprio ambito è altrettanto grande quanto lo permette la natura di questo ambito e non è questo che intendono quelli che parlano di relatività della conoscenza. Nota questo si applica anche alla semplice conoscenza sensibile che è nell'ordine inferiore limitato che è il suo una conoscenza immediata dunque necessariamente vera. A parte la considerazione dei gradi di una conoscenza più o meno completa e profonda gradi che non cambiano in niente la sua natura essenziale la sola distinzione che possiamo fare legittimamente in quanto al valore della conoscenza è quella che abbiamo già indicato tra la conoscenza immediata e la conoscenza immediata vale a dire tra la conoscenza effettiva e la conoscenza simbolica. Sedicesimo conoscenza e coscienza una conseguenza molto importante di ciò che è stato detto fin qui è che la conoscenza intesa assolutamente in tutta la sua universalità non ha fatto per sinonimo o per equivalente la coscienza il cui ambito è soltanto coesteso a certi stati di essere determinati di modo che è solo in questi stati ad esclusione di tutti gli altri che la conoscenza si realizza per mezzo di quello che si può chiamare una presa di coscienza. La coscienza come l'abbiamo intesa precedentemente anche nella sua più grande generalità e senza limitarla alla sua forma specificatamente umana è solo un modo contingente speciale di conoscenza sotto certe condizioni una proprietà inerente all'essere considerato in certi stati di manifestazione a maggior ragione non si può parlare in nessun modo di coscienza per gli stati incondizionati vale a dire per tutto quello che oltrepassa l'essere poiché essa non è neanche applicabile a tutto l'essere al contrario la conoscenza considerata in sé e indipendentemente da condizioni afferenti a qualche stato particolare non può ammettere nessuna restrizione e per essere adeguata alla verità totale deve essere coestensiva non solamente all'essere ma alla possibilità universale stessa dunque deve essere infinita come lo è necessariamente questa stessa questo equivale a dire che la conoscenza e la verità così considerate metafisicamente non sono altro in fondo che quello che abbiamo chiamato con un'espressione d'altronde molto imperfetta degli aspetti dell'infinito ed è quello che afferma con una particolare nettezza questa formula che è uno degli enunciati fondamentali del Vedanta Brahma è la verità la conoscenza l'infinito Satyam Jnanam Anantam Brahma quando abbiamo detto che il conoscere e l'essere sono le due facce di una stessa realtà si deve prendere il termine essere solo nel suo senso analogico e simbolico poiché la conoscenza va più lontano dell'essere come nel caso in cui parliamo della realizzazione dell'essere totale implicando questa realizzazione essenzialmente la conoscenza totale è assoluta e non essendo in nulla distinta da questa stessa conoscenza purché si tratti ben inteso della conoscenza effettiva e non di una semplice conoscenza teorica e rappresentativa ed è questo il momento di precisare un po' d'altra parte il modo in cui si deve intendere l'identità metafisica del possibile e del reale poiché tutto il possibile è realizzato dalla conoscenza questa identità appresa universalmente costituisce propriamente la verità in sé perché essa può essere concepita precisamente come l'adeguamento perfetto della conoscenza alla possibilità totale nota questa formula si accorda con la definizione che San Tommaso d'Aquino dà della verità come ad equatio rei et intellectus ma è in qualche modo solo un tipo di trasposizione perché si deve tener conto di questa differenza capitale che la dottrina scolastica si racchiude esclusivamente nell'essere mentre quello che diciamo qui si applica ugualmente a tutto quello che è al di là dell'essere si vedono facilmente tutte le conseguenze che si possono trarre da questa ultima affermazione la cui portata è immensamente maggiore di quella di una definizione semplicemente logica della verità perché è là tutta la differenza dell'intelletto universale incondizionato con l'intelligenza umana con le sue condizioni individuali comeppure da un altro lato tutta la differenza che separa il punto di vista della realizzazione da quello di una teoria della conoscenza nota qui il termine intelletto è anch'esso trasportato al di là dell'essere dunque ha più forte ragione al di là di buddi che per quanto di ordine universale e informale appartiene ancora all'ambito della manifestazione e di conseguenza non può essere detta incondizionata la parola reale stessa abitualmente molto vaga a volte anche equivoca e che lo è forzatamente per i filosofi che affermano la pretesa distinzione del possibile del reale assume così tutto un altro valore metafisico trovandosi riferita a questo punto di vista della realizzazione o per parlare più precisamente divenendo un'espressione della permanenza assoluta nell'universale di tutto ciò di cui un essere raggiunge il possesso effettivo attraverso la totale realizzazione di se stesso nota si rimarcherà d'altronde la stretta parentela che non ha niente di fortuito tra le parole reale e realizzazione questa stessa permanenza si esprime in un altro modo nel linguaggio teologico occidentale quando si dice che i possibili sono eternamente nell'intelletto divino l'intelletto in quanto principio universale potrebbe essere concepito come il contenitore della conoscenza totale ma alla condizione di vedervi solo un semplice modo di parlare perché qui in cui siamo essenzialmente nella non dualità il contenitore e il contenuto sono assolutamente identici l'uno e l'altro dovendo essere ugualmente infiniti e una pluralità di infiniti è come abbiamo già detto un'impossibilità la possibilità universale che comprende tutto non può essere compresa da niente se non da se stessa ed essa si comprende da sé senza tuttavia che questa comprensione esista in un modo qualunque perciò si può parlare in senso universale dell'intelletto e della conoscenza come elementi correlati nel senso con cui prima abbiamo parlato dell'infinito e della possibilità vale a dire vedendovi una sola e stessa cosa che consideriamo simultaneamente sotto un aspetto attivo e sotto un aspetto passivo ma senza che vi sia una distinzione reale non dobbiamo distinguere nell'universale intelletto e conoscenza né di conseguenza intelligibile e conoscibile essendo la conoscenza vera immediata l'intelletto fa rigorosamente una cosa sola col suo oggetto è solo nei modi condizionati di conoscenza modi sempre indiretti e inadeguati che si deve stabilire una distinzione operando questa conoscenza relativa non attraverso l'intelletto ma attraverso una rifrazione dell'intelletto negli stati d'essere considerati e come abbiamo visto è una tale rifrazione che costituisce la coscienza individuale ma direttamente o indirettamente c'è sempre partecipazione all'intelletto universale nella misura in cui c'è conoscenza effettiva sia sotto un modo qualunque sia al di fuori di ogni modo particolare essendo la conoscenza totale adeguata alla possibilità universale non c'è niente che sia inconoscibile o in altri termini non ci sono cose inintelligibili ci sono solo cose attualmente incomprensibili vale a dire inconcepibili non in se stesse assolutamente ma solo per noi in quanto esseri condizionati vale a dire limitati nella nostra manifestazione attuale alle possibilità di uno stato determinato nota rigettiamo dunque formalmente assolutamente ogni agnosticismo a qualsiasi grado si potrebbe d'altronde chiedere ai positivisti come anche ai partigiani della famosa teoria dell'inconoscibile di Herbert Spencer cosa li autorizza ad affermare che ci sono delle cose che non possono essere conosciute e questa domanda rischerebbe fortemente di restare senza risposta tanto più che certi sembrano di fatto confondere puramente e semplicemente l'ignoto vale a dire in definitiva quello che è ignoto a loro stessi e l'inconoscibile pensiamo perciò di poter definire un principio di intelligibilità universale non come si intende comunemente ma in un senso puramente metafisico dunque al di là dell'ambito logico in cui questo principio come tutti quelli che sono di ordine propriamente universale e che soli meritano veramente di essere chiamati principi troverà solo un'applicazione particolare e contingente ben inteso questo non postula per noi nessun razionalismo tutto al contrario perché la ragione essenzialmente è differente dall'intelletto senza la cui garanzia del resto non avrebbe alcuna validità altro non è che una facoltà specificamente umana e individuale c'è dunque di necessità non diciamo l'irrazionale ma il soprarazionale che è in effetti un carattere fondamentale di tutto quello che è veramente di ordine metafisico questo soprarazionale non smette per questo di essere intelligibile in sé anche se non è realmente comprensibile per le facoltà limitate e relative dell'individualità umana nota quello che supera la ragione in effetti non è per questo contrario alla ragione come invece il senso dato generalmente alla parola irrazionale ricordiamo a questo proposito che un mistero anche inteso nella sua concezione teologica non è affatto qualcosa di inconoscibile o di inintelligibile ma secondo il senso etimologico della parola e come abbiamo detto in precedenza qualcosa che è inesprimibile dunque incomunicabile cosa tutta differente questo implica ancora un'altra osservazione di cui si deve tener conto per non commettere errori come la parola ragione anche la parola coscienza può essere a volte universalizzata per una trasposizione puramente analogica e l'abbiamo fatto noi stessi altrove per rendere il significato del termine sanscrito citt ma una tale trasposizione è possibile solo quando si limita all'essere come era il caso allora per la considerazione della parola ternaria sat cittananda tuttavia si deve ben comprendere che anche con questa restrizione la coscienza così trasposta non è affatto intesa nel suo senso proprio come l'abbiamo definita in precedenza e che in genere conserviamo a questa parola in questo senso ella è e lo ripetiamo solo il modo speciale di una conoscenza contingente e relativa come è relativo e contingente lo stato di essere condizionato a cui appartiene essenzialmente e se si può dire che sia una ragione d'essere per un tale stato lo è solo in quanto è una partecipazione per rifrazione alla natura di quell'intelletto universale e trascendente che è esso stesso finalmente ed eminentemente la suprema ragione d'essere di tutte le cose la vera ragione sufficiente metafisica che si determina essa stessa in tutti gli ordini di possibilità senza che nessuna di queste determinazioni possa influenzarla in qualsiasi cosa questa concezione della ragione sufficiente molto diversa dalle concezioni filosofiche o teologiche in cui si rinchiude il pensiero occidentale risolve d'altronde immediatamente bene le questioni davanti alle quali quel pensiero deve confessarsi impotente e questo conciliando il punto di vista della necessità e quello della contingenza siamo qui in effetti ben al di là dell'opposizione della necessità e della contingenza intese nella loro accezione ordinaria ma qualche chiarimento complementare non sarà inutile per far comprendere perché la questione non può essere posta in metafisica pura nota diciamo d'altronde che la teologia ben superiore in questo alla filosofia riconosce almeno che questa opposizione può e deve essere superata sebbene la sua risoluzione non le appaia in tutta l'evidenza che presenta quando la si considera dal punto di vista metafisico occorre aggiungere che soprattutto dal punto di vista teologico e in ragione della concezione religiosa della creazione che questa questione dei rapporti della necessità e della contingenza ha rivestito fin dall'inizio l'importanza che ha conservato in seguito filosoficamente nel pensiero occidentale 17 necessità e contingenza ogni possibilità di manifestazione abbiamo detto in precedenza deve manifestarsi per il fatto stesso di essere ciò che è cioè una possibilità di manifestazione in tal modo che la manifestazione è necessariamente implicita in linea di principio nella natura stessa di certe possibilità perciò la manifestazione che è puramente contingente in quanto tale è non di meno necessaria nel suo principio così come transitoria in se stessa possiede tuttavia una radice assolutamente permanente nella possibilità universale e d'altronde è proprio tale radice che costituisce tutta la sua realtà se così non fosse la manifestazione potrebbe avere solo un'esistenza tutta illusoria anzi si potrebbe considerarla come rigorosamente inesistente poiché essendo senza principio essa conserverebbe solo un carattere essenzialmente privativo come può esserlo quello di una negazione o limitazione in se stessa e la manifestazione considerata in questo modo non sarebbe in effetti niente di più che l'insieme di tutte le condizioni limitative possibili soltanto dal momento che queste condizioni sono possibili sono metafisicamente reali e questa realtà che era solo negativa quando la si concepiva come semplici limitazioni diviene positiva in qualche modo quando la si considera come possibilità è dunque perché la manifestazione è implicita nell'ordine delle possibilità che ha la sua realtà propria senza che questa realtà possa in alcun modo essere indipendente da quest'ordine universale perché è là e là solamente che ha la sua vera ragione sufficiente dire che la manifestazione è necessaria nel suo principio non è altro in fondo che dire che è compresa nella possibilità universale non c'è nessuna difficoltà a concepire che la manifestazione sia perciò allo stesso tempo necessaria e contingente sotto punti di vista differenti ammesso che si faccia bene attenzione a questo punto fondamentale che il principio non può essere affetto da qualsiasi determinazione poiché ne è essenzialmente indipendente come la causa lo è dai suoi effetti di modo che la manifestazione necessitata dal suo principio non potrebbe inversamente essere lei a necessitarlo in alcun modo dunque l'irreversibilità o l'irreciprocità della relazione che consideriamo qui risolve tutta la difficoltà ordinariamente supposta in questa questione difficoltà che esiste insomma solo perché si perde di vista questa irreciprocità e se la si perde di vista supponendo che si sia mai intravista in qualche grado è che per il fatto che ci si trova attualmente posti nella manifestazione siamo naturalmente portati ad attribuire a questa un'importanza che dal punto di vista universale non potrebbe avere in alcun modo per far comprendere meglio il nostro pensiero a questo proposito possiamo prendere qui ancora un simbolo spaziale e dire che la manifestazione nella sua integralità è in vero nulla rispetto all'infinito così come salvo le riserve che esige sempre l'imperfezione di tali paragoni un punto situato nello spazio è uguale a zero in rapporto a questo spazio nota si tratta qui ben inteso del punto situato dello spazio e non del punto principale di cui lo spazio stesso è solo un'espansione o uno sviluppo questo non vuol dire che questo punto non sia niente assolutamente tanto più che esiste necessariamente per il fatto stesso che esiste lo spazio ma non è niente sotto l'aspetto dell'estensione è rigorosamente uno zero in quanto ad estensione e la manifestazione non è niente di più in rapporto al tutto universale di quanto sia questo punto in rapporto allo spazio considerato in tutta l'indefinità della sua estensione con la differenza inoltre che lo spazio è qualcosa di limitato per sua propria natura mentre il tutto universale è l'infinito dobbiamo indicare qui un'altra difficoltà ma che sta molto più nell'espressione che nella concezione stessa tutto quello che esiste in modo transitorio nella manifestazione deve essere trasposto in modo permanente nel non manifestato la manifestazione stessa acquista così la permanenza che è tutta la sua realtà principale ma non si tratta più della manifestazione in quanto tale è l'insieme delle possibilità di manifestazione che non si manifestano pur implicando tuttavia la manifestazione nella loro manifestazione stessa altrimenti sarebbero altro da quello che sono la difficoltà di questa trasposizione o di questo passaggio dal manifestato al non manifestato e l'oscurità apparente che ne risulta sono quelle che si incontrano ugualmente quando si vuole esprimere nella misura in cui sono esprimibili i rapporti fra il tempo o più in genere la durata sotto tutti i suoi modi vale a dire di ogni condizione di esistenza successiva e l'eternità ed è in fondo la stessa questione considerata sotto due aspetti non molto dissimili e di cui il secondo è semplicemente più particolare del primo poiché si riferisce solo a una condizione determinata fra tutte quelle che comporta il manifestato tutto questo lo ripetiamo è perfettamente concepibile ma occorre saper tenere conto dell'inesprimibile come d'altronde in tutto quello che appartiene all'ambito metafisico quanto poi ai mezzi di realizzazione di un concetto effettivo e non solamente teorico estendente sia allo stesso inesprimibile non possiamo evidentemente parlarne in questo studio poiché le considerazioni di quest'ordine non rientrano nel quadro che ci siamo attualmente assegnati ritornando alla contingenza possiamo in un modo generale darne la definizione seguente è contingente tutto quello che non ha in se stesso la sua ragione sufficiente e perciò si vede bene che unicosa contingente è non di meno necessaria nel senso che è necessitata dalla sua ragione sufficiente perché per esistere deve averne una che però non risiede in essa tanto meno se la si considera sotto la condizione speciale in cui ha precisamente questo carattere di contingenza che non avrebbe più se la si considerasse nel suo principio perché allora si identificherebbe alla sua ragione sufficiente stessa tale è il caso della manifestazione contingente come tale perché il suo principio la sua ragione sufficiente si trova nel non manifestato in quanto questo comprende quello che possiamo chiamare il manifestabile vale a dire le possibilità di manifestazione come possibilità pure e non ovviamente in quanto comprende il non manifestabile o le possibilità di non manifestazione principio e ragione sufficiente sono dunque in fondo la stessa cosa ma è particolarmente importante considerare il principio sotto questo aspetto di ragione sufficiente quando si vuole comprendere nel suo senso metafisico la nozione della contingenza e occorre ancora precisare per evitare ogni confusione che la ragione sufficiente è esclusivamente la ragione d'essere ultima di una cosa ultima se si parte dalla considerazione di questa cosa per risalire verso il principio ma in realtà prima nell'ordine delle cause sia logico che ontologico andando dal principio alle conseguenze e non semplicemente la sua ragione d'essere immediata perché tutto quello che è sotto un modo qualunque anche contingente deve avere in se stesso la sua ragione d'essere immediata intesa nel senso che abbiamo detto in precedenza che la coscienza costituisce una ragione d'essere per certi stati dell'esistenza manifestata una conseguenza molto importante di questo è che si può dire che ogni essere ha in se stesso il suo destino sia in un modo relativo destino individuale se si tratta soltanto dell'essere considerato all'interno di un certo stato condizionato sia in un modo assoluto se si tratta dell'essere nella sua totalità perché la parola destino designa la vera ragione d'essere delle cose soltanto l'essere condizionato relativo può portare in sé solo un destino ugualmente relativo esclusivamente afferente alle sue condizioni speciali di esistenza se considerando l'essere in questo modo si volesse parlare del suo destino ultimo questo non sarebbe più in lui perché non si tratta veramente del destino di quell'essere in quanto contingente riferendosi in realtà all'essere totale questa affermazione basta mostrare l'inutilità di tutte le discussioni che si riferiscono al determinismo nota si potrebbe dire altrettanto di una buona parte di discussioni relativi alla finalità è così in particolare che la distinzione della finalità interna e della finalità esterna possono apparire veramente valide solo quando si ammette la supposizione anti-metafisica che un essere individuale sia un essere completo e costituisca un sistema chiuso poiché altrimenti quello che è esterno per l'individuo può non di meno essere interno per l'essere vero ammesso che la distinzione implicita in questa parola sia ancora applicabile ed è facile rendersi conto che in fondo la finalità e il destino sono identici dunque a questa affermazione basta mostrare l'inutilità di tutte le discussioni che si riferiscono al determinismo si tratta ancora di una di queste questioni così numerose nella filosofia occidentale moderna che esistono solo perché sono malposte ci sono d'altronde molte concezioni differenti del determinismo e anche delle concezioni differenti della libertà gran parte delle quali non hanno niente di metafisico è dunque importante precisare la vera nozione metafisica della libertà ed è con questo che termineremo il presente studio diciottesimo nozione metafisica della libertà per provare metafisicamente la libertà basta senza ingombrarsi di tutte le comuni argomentazioni filosofiche stabilire che essa è una possibilità poiché il possibile e il reale sono metafisicamente identici per questo possiamo prima di tutto definire la libertà come l'assenza di costrizioni definizione negativa nella forma ma che ancora una volta è positiva in fondo perché la costrizione è una limitazione vale a dire una negazione ora quanto alla possibilità universale considerata al di là dell'essere e vale a dire come il non essere non si può parlare di unità come abbiamo detto prima poiché il non essere è lo zero metafisico ma si può almeno impiegando sempre la forma negativa parlare di non dualità advaita là dove non esiste dualità non c'è necessariamente nessuna costrizione e questo basta provare che la libertà è una possibilità dal momento che risulta immediatamente dalla non dualità che è evidentemente esente da ogni contraddizione ora possiamo aggiungere che la libertà è non solo una possibilità nel senso più universale ma anche una possibilità di essere o di manifestazione qui basta per passare dal non essere all'essere passare dalla non dualità all'unità l'essere è uno l'uno essendo lo zero affermato o piuttosto è l'unità metafisica stessa prima affermazione ma anche per quello stesso principio prima determinazione questo è un caso manifestamente esente da ogni costrizione di modo che l'assenza di costrizione vale a dire la libertà si ritrova nel dominio dell'essere in cui l'unità si è presente in qualche modo come una specificazione della non dualità principale del non essere in altri termini la libertà appartiene anche all'essere che equivale a dire che è una possibilità di essere o secondo quello che abbiamo spiegato in precedenza una possibilità di manifestazione poiché l'essere è prima di tutto il principio della manifestazione inoltre diremo che questa possibilità è essenzialmente inerente all'essere come conseguenza immediata della sua unità vale a dire che si manifesterà ad un grado qualunque in tutto quello che procede dall'essere vale a dire in tutti gli esseri particolari in quanto appartengono all'ambito della manifestazione universale soltanto dal momento che vi è molteplicità come è il caso nell'ordine di esistenze particolari è evidente che si può parlare solo di libertà relativa e si può considerare a questo riguardo sia la molteplicità degli esseri particolari stessi sia quella degli elementi costitutivi di ognuno di essi in quello che concerne la molteplicità degli esseri ognuno di loro nei suoi stati di manifestazione è limitato da altri e questa limitazione può tradursi con una restrizione alla libertà ma a dire che un essere qualunque non è libero in nessun grado sarebbe dire che non è lui stesso ma che è gli altri o che non possiede in sé la propria ragione di essere neanche immediata che in fondo equivarrebbe a dire che non è affatto un essere vero e proprio nota si può ancora far rimarcare che dal momento che la molteplicità procede dall'unità nella quale è implicata o contenuta in principio non può in alcun modo distruggere l'unità né ciò che è una conseguenza dell'unità come la libertà d'altra parte poiché l'unità dell'essere è il principio della libertà negli esseri particolari come anche nell'essere universale un essere sarà libero nella misura in cui parteciperà di questa unità in altri termini sarà tanto più libero quanto più unità avrà in sé stesso o quanto più sarà uno ma come abbiamo già detto gli esseri individuali lo sono sempre solo relativamente nota ogni essere per essere veramente tale deve avere una certa unità di cui porta il principio in sé stesso in questo senso Leibniz ha detto a ragione quello che non è veramente un essere non è non di meno veramente un essere ma questo adattamento della formula scolastica ens et unum convertuntur perde la sua portata metafisica per l'attribuzione dell'unità assoluta e completa alle sostanze individuali è d'altronde in ragione di questa relatività che si può parlare di gradi di unità e anche di conseguenza di gradi di libertà perché ci sono gradi solo nel relativo e quello che è assoluto non è suscettibile di più o di meno più e meno devono qui essere presi analogicamente e non nella loro sola accezione quantitativa d'altronde importa rimarcare a questo riguardo che non è precisamente la più o meno grande complessità della costituzione di un essere quella che lo rende più o meno libero ma piuttosto il carattere di questa complessità secondo che sia più o meno unificato effettivamente questo risulta da quello che è stato esposto precedentemente sui rapporti dell'unità e della molteplicità nota occorre distinguere tra la complessità che è solo pura molteplicità e quella che al contrario è un'espansione dell'unità si potrebbe dire che in rapporto alla possibilità dell'essere la prima si riferisce alla sostanza e la seconda all'essenza si potrebbero considerare anche i rapporti di un essere con gli altri rapporti che per questo essere considerato nello stato in cui hanno luogo entrano come elementi nella complessità della sua natura poiché fanno parte dei suoi attributi come altrettante modificazioni secondarie di lui stesso sotto due aspetti apparentemente opposti ma in realtà complementari a seconda che in questi rapporti l'essere di cui si tratta assimili a sé gli altri o venga assimilato da essi costituendo questa assimilazione la comprensione nel senso stretto della parola il rapporto che esiste tra due esseri è allo stesso tempo una modificazione dell'uno e dell'altro ma si può dire che la causa determinante di questa modificazione risiede in quello dei due esseri che agisce sull'altro o che se lo assimila quando il rapporto è preso sotto il punto di vista precedente che non è più quello dell'azione ma quello della conoscenza in quanto essa implica identificazione tra i suoi due termini la libertà così considerata è dunque una possibilità che a gradi diversi è un attributo di tutti gli altri quali che siano in qualunque stato si situino e non solo dell'uomo la libertà umana sola in causa in tutte le discussioni filosofiche si presenta qui come un semplice caso particolare quello che è in realtà nota poco importa che certi preferiscano chiamare spontaneità quello che noi chiamiamo qui libertà per riservare specialmente quest'ultimo nome alla libertà umana questo impiego di due termini diversi ha il torto di poter facilmente far credere che quello che è più importante metafisicamente non è la libertà relativa degli esseri manifestati non più degli ambiti speciali e ristretti in cui è suscettibile di essere esercitata è la libertà intesa in senso universale che risiede propriamente nell'istante metafisico del passaggio dalla causa all'effetto il rapporto causale dovendo d'altronda essere trasposto analogicamente in un modo opportuno per potersi applicare a tutti gli ordini di possibilità poiché questo rapporto causale non è e non può essere un rapporto di successione l'effettuazione deve essere considerata qui essenzialmente sotto l'aspetto extratemporale e ciò tanto più quanto il punto di vista temporale specifico di uno stato determinato di esistenza manifestata o più precisamente ancora di certe modalità di questo stato non è in alcun modo suscettibile di universalizzazione nota neanche la durata intesa nel senso più generale come condizionante ogni esistenza in modo successivo vale a dire come comprendente ogni condizione che corrisponde analogicamente al tempo in altri stati può essere universalizzata poiché nell'universale tutto deve essere considerato in simultaneità la conseguenza di questo è che questo istante metafisico che ci sembra inafferrabile poiché non c'è nessuna soluzione di continuità tra la causa e l'effetto è in realtà illimitato dunque oltrepassa l'essere come abbiamo stabilito in primo luogo ed è coestensivo alla possibilità totale stessa costituisce quello che si può chiamare figurativamente uno stato di coscienza universale partecipando alla permanente attualità inerente alla causa iniziale stessa nota dovremmo riferirci a quello che abbiamo detto in precedenza sulle riserve che conviene fare quando si vuole universalizzare il senso del termine coscienza per trasposizione analogica l'espressione impiegata qui è in fondo pressappoco equivalente a quella di aspetto dell'infinito che allo stesso modo non può essere presa la lettera nel non essere l'assenza di costrizione può risiedere solo nel non agire il wow way della tradizione estremo orientale l'attività del cielo in se stessa nell'indifferenziazione principale del non essere è non agente e non manifestata nell'essere o più esattamente nella manifestazione la libertà si effettua nell'attività differenziata che nello stato individuale umano prende la forma dell'azione nel senso abituale della parola d'altronde nell'ambito dell'azione anche di tutta la manifestazione universale la libertà di indifferenza è impossibile perché è propriamente il modo di libertà che conviene al non manifestato e che per parlare rigorosamente non è affatto un modo particolare vale a dire che non è la libertà in quanto possibilità di essere o ancora la libertà che appartiene all'essere o a Dio concepito come l'essere nei suoi rapporti col mondo inteso come l'insieme della manifestazione universale e di conseguenza gli esseri manifestati che sono nel suo ambito e partecipano della sua natura e dei suoi attributi secondo la misura delle loro proprie rispettive possibilità nota essa lo diviene solo nella sua concezione filosofica ordinaria che non è solamente erronea ma veramente assurda perché suppone che qualcosa potrebbe esistere senza nessuna ragione d'essere la realizzazione delle possibilità di manifestazione che costituiscono tutti gli esseri in tutti i loro stati manifestati e con tutte le modificazioni azioni o altro che appartengono a questi stati questa realizzazione diciamo non può dunque riposare su una pura indifferenza o su un decreto arbitrario della volontà divina secondo la teoria cartesiana ben nota che pretende d'altronde di applicare questa concezione dell'indifferenza allo stesso tempo a Dio e all'uomo ma è determinata dall'ordine della possibilità universale di manifestazione che è l'essere stesso di modo che l'essere si determina esso stesso non solo in sé in quanto è l'essere prima di tutte le determinazioni ma anche in tutte le sue modalità che sono tutte le possibilità particolari di manifestazione è solo in queste ultime considerate distintivamente anzi sotto l'aspetto della separatività che può esservi determinazione da un altro da sé ossia gli esseri particolari possono allo stesso tempo determinarsi in quanto ognuno di essi possiede una certa unità e quindi una certa libertà come partecipante dell'essere ed essere determinati da altri esseri in ragione della molteplicità degli esseri particolari non ricondotti all'unità quando li si considera sotto il punto di vista degli stati di esistenza manifestati l'essere universale non può essere determinato ma si determina esso stesso in quanto al non essere non può essere determinato né determinarsi poiché è al di là di ogni determinazione e non ne ammette nessuna si vede da quello che precede che la libertà assoluta può realizzarsi solo per la completa universalizzazione sarà autodeterminazione in quanto coestensiva all'essere e indeterminazione al di là dell'essere mentre una libertà relativa appartiene a ogni essere sotto qualunque condizione questa libertà assoluta può appartenere solo all'essere liberato dalle condizioni dell'esistenza manifestata individuale o sopra individuale e divenuto assolutamente uno al grado dell'essere puro o senza dualità se la sua realizzazione oltrepassa l'essere allora solamente si potrà parlare dell'essere che è legge a se stesso perché questo essere è pienamente identico alla sua ragione sufficiente che è allo stesso tempo la sua origine principale e il suo destino finale